allora buonasera a tutti quanti e bentornato a Giovanni Cecini in tenuta a natalizia io l'elfo l'elfo l'aiutante di di Babbo Natale è poco seria questa questa misa ma ehm se riesco se oggi riesco anche investito così a essere credibile in ciò che dico allora penso che di aver raggiunto qualsiasi livello quindi è una prova contro le apparenze la sublimazione del mito esattamente esattamente a essere preso sul serio così puoi fare qualsiasi cosa esatto il prossimo step è avere il naso rosso da pagliaccio però diciamo magari allora allora beh io comincerei subito con questo bel quadretto che è una versione un po no sì un po naif sì un po' così a quadro un po' spennellato dei nostri cari amici non ci sono i gerarchi barballi santo dio hai fatto lo scherzo l'altra volta però non ci sono perché i tuoi i tuoi utenti sono gente attenta quindi non è che la li 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 vuoi gabbare in maniera così così a buon mercato non eh non le posso buggerare più di tanto no 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 per nulla per nulla che poi il bello di questo di questo di questo disegno tratto da una foto famosissima che oltre ai quattro quadrumbiri e ovviamente a mussolini ci sono dietro un sacco di altri che in altre circostanze non non li noteresti no ci sta Teruzzi ci sta ehm ci sta che ci aspetta aspetta che ci stava lì a Cerbo ecco qua quello con gli occhi a colpiz ne a Cerbo quindi diciamo sono una serie di 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 figure più o meno note della dell'entourage del del fascismo ma che in qualche modo ci rappresentano ancora meglio eh di come eh il fascismo fosse una un coro un coro un coro sostanzialmente un coro polifonico di tante anime che in qualche modo eh ciascuno dalla propria parte tirava da una parte e dall'altra i mussolini che eh si si prendeva la l'onere o l'onore di 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 diciamo ecco sì eh però non è molto alta quindi magari sta dietro quindi non è dietro non si vede esatto mi viene sempre in mente proprio qualche proprio ieri ho fatto una citazione del del film Totò Diabolicus che non so se chi lo conosce un film strepitoso in cui Totò fa cinque sei parti e tra le parti che 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 interpreta c'è un gene un ex generale eh generale della milizia che muore e lascia in eredità un tra l'altro un busto d'oro del duce allora quando il notaio raccolta diciamo eh elenca le 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 gli i pezzi dell'eredità al al fratello sopravvissuto dice eh tra l'altro ha ereditato un busto d'oro del duce dice come ma il duce portava un busto d'oro dice no no come no era che cosa un un reggipetto una pancera che se no eh perché se no ecco perché stava così dritto un busto d'oro che e quindi nasce questa cosa abbastanza ironica e mi viene in mente vedendo Mussolini tronfio così con la sua solida posa di 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 elemento eh iconico ma vogliamo iniziare arrivare alla alla eh eccoci ecco qua questo Giacomo Acerbo Giacomo Acerbo è una una figura che mi affascina molto devo dire ehm e e e lo e lo diciamo lo ricordo con grande interesse perché mh ha attraversato il tutto il periodo del fascismo eh con un carico di responsabilità senza dubbio importanti ovviamente a a proprio a proprio a proprio demerito ma dall'altra parte comunque esprimendo una propria connotazione tecnica non da poco nel senso che se eh la eh componente dei gerarchi diciamo quelli che stiamo esaminando noi e tanto per per ricordarlo noi usiamo come riferimento il mio libro ultimo eh che appunto raccoglie eh trenta biografie un po' di marchetta ehm shameless esatto product placement trenta trenta biografie eh tra i gerarchi che diciamo dei più alti livelli poi in realtà ho ho diciamo esaminato anche personaggi minori ma secondo me interessanti per andare a capire la le varie sfaccettature e oggi per esempio dopo parleremo di preziosi che sicuramente non è tra i più in vista ma mh sono comunque dei personaggi che ci rappresentano una parte importante del del regime di come il regime poi si è andato evolvendo e eh dicevo mh Acerbo che comunemente lo si ricorda essenzialmente per la legge eh a ehm che di cui porta il nome la legge elettorale che a partire dal venti dal venticinque esatto dal venticinque a ehm eh no però questa è sulla caccia eh c'è questa è sulla caccia sì ma infatti eh guarda ci stavo per arrivare tu eh diciamo è stato un un elemento particolare ehm faccio un passo avanti e poi faccio un passo indietro nelle sue memorie di Acerbo eh che lui era eh gra ciao come va tutto bene 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 e mh ehm venne appunto dopo la seconda guerra mondiale venne eh ebbe dei procedimenti eh penali a suo carico per le sue responsabilità durante il regime fascista e in particolar modo per la legge Acerbo che in qualche modo è considerata come ehm la norma eh principale che ha portato all'annullamento del del Parlamento di tutto ciò che rappresentava appunto che rappresentava la rappresentatività elettorale del del popolo le leggi fascistissime eh tutto un percorso esatto che parte dalla legge elettorale fino ad arrivare a a tutta la eliminazione delle opposizioni ebbene eh Acerbo in un momento di di carcerazione era imprigionato eh raccontava di come un carabiniere un non so se era un maresciallo un comunque un diciamo di di me di me di medio rango non so se era un brigadiere eh dei carabinieri che appunto era eh incuriosito dal fatto che Acerbo potesse essere incriminato per la legge che portava il suo nome credendo che lo lo volessero incriminare sulla legge sulla caccia dice ma come è possibile una legge sulla caccia che le porta tutti questi guai quindi Acerbo poi ironizzava sul fatto che tutti lo accusavano della legge elettorale in realtà a suo nome esistevano più di una legge e in quel caso questo carabiniere ricordava quella sulla caccia e non tanto quella più famosa eh sulla ehm sulla sull'elezione della della camera dei deputati allora eh il discorso su Acerbo parte secondo me inevitabilmente dalla terra d'Abruzzo egli era eh nato in una in una zona agricola eh allora in provincia di di Teramo poi in realtà eh sarebbe passata a a Pescara e mi pare Loreto Aprutino se non vado errato e eh era eh l'esponente di una ehm di una eh media eh media borghesia eh agraria nel senso che eh diciamo di 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 scusate un attimo scusate un attimo il bello della dire il bello della diretta però c'ho le figlie che bambine non dovete urlare silenzio scusate ma qui eh capite bene che con che è per un casino ehm la dicevo ehm Acerbo che eh con una situazione di benessere quindi era diciamo aveva anche un titolo poi nobiliare per dei posterimenti che egli aveva ehm nella zona e gradatamente attraverso anche la sua ehm diciamo eh attitudine alla organizzazione era un 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 esperto di eh di di elementi agrari era un agronomo quindi diciamo ebbe una sua anche carriera tra l'altro che sarebbe proseguita anche dopo la seconda guerra mondiale venne riabilitato con degli incarichi universitari quindi era una persona competente una persona che conosceva veramente i problemi anche reali tant'è che ebbe anche degli incarichi diciamo come ehm ministro tecnico eh del dell'economia quindi diciamo diciamo non eh rappresentava veramente per certi aspetti quel lato eh di intelligenza capite bene quello che voglio intendere intelligenza del fascismo che aveva dei contenuti delle basi culturali delle basi di risoluzione di alcuni problemi e questo sicuramente eh derivava dalla sua eh provenienza eh di una realtà eh agricola dove appunto c'erano dei problemi ma tra l'altro una una realtà agricola ehm acculturata egli ebbe sempre un interesse molto diffuso per l'arte per l'archeologia si occupò di ehm era un collezionista quindi diciamo eh istituì delle collezioni di ceramiche di di manufatti di di più varia eh natura e eh la eh capacità di acerbo di inserirsi all'interno della realtà abruzzese una realtà che seppur possiamo dire marginale delle grandi ehm delle grandi realtà di sviluppo sappiamo come l'Abruzzo che per una questione anche di ordine diciamo geografico eh sono appunto eh ampie zone eh montuose difficili anche nelle comunicazioni ma dall'altro delle prospettive interessanti ehm c'erano state appunto le bonifiche eh nonostante poi ci sono stati anche i terremoti quindi diciamo una realtà abbastanza eclettica uniforme di acerbo e dell'aeronautica no l'uniforme di acerbo che abbiamo visto prima è ministeriale ehm ehm questo probabilmente era come ministro eh del uno dei vari di castelli che gli eh diresse questo invece è una uniforme nera della della milizia all'epoca visto il consigliato che eh le uniformi vennero introdotte per tutti i funzionari dello Stato anche diciamo una cosa che tu sei un esperto di uniformologia sì sì tra l'altro tra l'altro ehm e e quindi eh all'interno delle ehm delle strutture ministeriali vennero a essere introdotte proprio le uniformi per tutti i gradi ministeriali e in quel caso quella che portava acerbo in quella circostanza era quella massima del del ministero. Infatti guarda qui c'è un commento no guardate la prima fase del fascismo si avvasse i personaggi culturali di rilievo infatti lui sulle leggi razziali ebbe una posizione assai moderata non era un un estremista proprio dato dal dall'essere un intellettuale cioè non è che l'ha colse così tut court sì ehm allora acerbo non è che si oppose poi insomma senza voler arrivare a però sicuramente vedeva il problema in maniera molto più pragmatica ehm diciamo che nel nel rapporto alle leggi razziali vi furono essenzialmente tre eh tre posizioni quelle dei convinti quelli che ritenevano le leggi razziali come eh necessarie come ehm utili eh e di supporto alla ehm all'alleanza verso la Germania l'alleanza militare ancora non c'era l'alleanza sarebbe avvenuta soltanto l'anno dopo nel trentanove ma a maggio c'era stata la visita di Hitler a Roma scusate la visita di Hitler in Italia perché la visita diciamo si ricorda come la visita a Roma e poi in realtà eh Hitler ehm eh fu anche a Napoli e a Firenze. Non so se è un commento serio o è un commento al tuo maglione. Ah non lo so comunque diciamo eh se torniamo al discorso di di prima se se riesco a essere credibile anche con questo maglione allora diciamo riesco a essere eh credibile in 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 maniera assoluta eh a partì scherzi mh tornando al discorso delle leggi razziali visto che l'abbiamo toccato e saranno un argomento di grande importanza soprattutto per eh la figura eh di preziosi eh che eh di di cui parleremo dopo ehm dicevo le leggi razziali eh per la propria collocazione cronologica siamo nella seconda metà del mil novecentotrentotto la campagna razziale inizierà già nel mese di luglio ma le prime leggi eh saranno promulgate a partire dal mese di settembre e dicevo ehm l'avvicinamento dell'Italia alla Germania eh nel corso del mil novecentotrentotto sarà costante e eh seppur la Germania in realtà non abbia mai chiesto nulla in maniera esplicita nella adozione del di provvedimenti contro gli ebrei eh alcuni gerarchi ritennero questa 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 decisione questa eh incanalarsi verso le posizioni più estreme anche in quel senso come necessarie e come necessarie e questo è un tema secondo me non secondario nella sia nella introduzione delle leggi razziali ma anche nella comprensione delle stesse leggi razziali di come eh il fascismo a differenza del nazismo eh non ebbe eh quella eh svolta totalitaria mi spiego il fascismo appunto sa il potere nel nel ottobre del mil novecento novembre nel mil novecento ventidue e mantenne comunque sempre alcune roccaforti eh di contraltare pensiamo alla chiesa pensiamo alla monarchia pensiamo alle forze armate cosa che invece il regime nazista non fece il regime fascista sostanzialmente annullò qualsiasi altro elemento eh di competizione ebbene quindi questa ehm cosiddetta sterzata totalitaria che mancò sostanzialmente sempre al fascismo fu anche il tallone d'Achille dello stesso fascismo perché perché il fascismo si trovava di fronte una prospettiva di rivoluzione permanente ma allo stesso tempo una rivoluzione che era mai riuscita a realizzarsi e quindi proprio eh dopo la guerra d'Etiopia vi fu il tentativo maldestro possiamo dire oggi del fascismo di eh creare eh un una seconda onda una cosiddetta seconda seconda ondata per andare a certificare a rendere effettiva tutte quelle promesse più o meno eh mantenute eh del voler riformare lo stato quando venne bandita ehm facetta nera perché parlava dell'integrazione dal punto di vista fascista quindi ci sono anche questi paradossi qui ma sai ecco perché il discorso è questo perché facetta facetta nera ehm eh aveva degli elementi paternalistici, degli elementi di ehm di vicinanza rispetto ai nuovi sudditi di colore e a partire proprio dall'immediato ehm dopo guerra della guerra d'Etiopia vi fu invece un ehm progressivo eh un progressivo distanziamento eh verso tutte le forme di assimilazione che che vi potevano essere tra eh cittadini italiani eh bianchi e sudditi di colore. Era motivo di imbarazzo ricordo giusto due strofe no? Dicevano eh ti porteremo a Roma liberata, sarai camicia nera anche tu. Beh allora il discorso è questo che eh. Il discorso raziale non non ci poteva più stare. Allora è uno dei paradossi perché poi in realtà eh le truppe indigene parteciperanno per esempio alla eh formazione alle formazioni militari. Mh era il grosso. Esatto ci furono tutte delle unità tra l'altro anche particolarmente valorose nel senso che diciamo vi furono anche eh delle mh dei casi eh individuali ma anche collettivi di eh azioni. Bande am. Bande am. Sì sì ma infatti è la è la profonda contraddizione del fascismo possiamo dire anche attraverso questa cosa. Ma eh ci si accorse ben presto come giustamente dicevi che eh quello spirito di liberazione di passatemi il termine di fratellanza in cui si voleva distinguere il colonialismo italiano da qualsiasi altro colonialismo che fosse inglese, francese eccetera quindi ehm diciamo i cavalli di am. Eh sì diciamo questo è un elemento importante nel senso di di come eh vi furono rispetto alla ehm come si dice alla comune comune sentore progressivo di distanziamento di differenzazione. Vi erano degli elementi eh diciamo di di comprensione di 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 comune sentire tra appunto eh bianchi e neri ecco. Ehm e dicevo e e questa progressione di distanziamento pensiamo alla legge sul matamato il fatto che vi non vi potessero essere delle eh unioni non tanto sessuali perché poi era difficile difficile eh diciamo evitare che ci potessero essere delle unioni sessuali ma più che altro di eh matrimoni e quindi la il divieto che vi potessero essere dei matrimoni tra ehm elementi di 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 razze diverse sarà un elemento ehm uno snodo importante per andare poi a capire eh la ehm come ci sarei come sarebbe arrivata la legge raziale perché poi essenzialmente la legge raziale dice ma perché avvennero fatte in quel qual è il motivo motivo direi che non c'è non ci fu un motivo cioè un elemento veramente di 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 allucinazione ma il motivo politico e questo elemento eh da sempre sottolineare furono essenzialmente tre ossia appunto quello spirito eh raziale che era già sviluppato nei confronti dei eh dei sud di eh di pelle di pelle nera poi abbiamo sicuramente la 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 progressione verso l'alleanza con la Germania che seppur ripeto la Germania non aveva mai chiesto nulla ma vi fu una una sorta di desiderio di avvicinarsi allo spirito nazista e dall'altra parte quello che vi avevo eh preannunciato prima al senso di cercare di trovare un nuovo stimolo alla cosiddetta rivoluzione fascista la rivoluzione fascista doveva trovare un nemico nuovo diciamo si era stiamo siamo anche quelli interni erano quasi finiti quindi sì esatto vi fu anche tra l'altro ci troviamo alla fine quasi alla fine del lungo setternato di Starace alla segreteria del partito ne parleremo dopo parlando proprio di Starace nel senso che Starace che visse la sua permanenza eh al capo del del partito con una sorta di continua ritualità continua ridondanza un continuo ehm dedicarsi alle forme e mai alla sostanza tant'è che appunto era sostanza diciamo comunemente definito un cretino nel senso però un cretino obbediente nel senso che a Mussolini non servivano eh persone competenti persone eh che avevano delle proprie idee ma molto spesso aveva bisogno di burattini che in qualche modo potessero assecondare le proprie eh idee estemporanee e per tornare ad Acerbo vi ho fatto una lungo un lungo giro eh e siamo torniamo ad Acerbo beh Acerbo era sicuramente un personaggio ripeto di grande intelligenza che però essendo ovviamente sta essendo facendo ecco questo è la la le memorie di cui vi parlavo prima in cui c'era quella cosa sì ho infilato un po' di libri un po' di memorie anche non scritti ma guarda questi libri io io ce li ho lo dico guarda li trovate a due euro a cinque euro che trovate a niente proprio guarda questo lì questo questo libro qui io mi ricordo l'ho comprato a una bancarella mi pare a quattro cinque euro ehm l'ho trovato veramente veramente interessante tra l'altro ci ho fatto anche alcuni video un paio almeno un paio di video sul mio canale ehm perché oltre a l'elemento biografico cioè autobiografico di Acerbo che racconta se stesso ovviamente con degli elementi che diciamo sono molto autogiustificativi come è inevitabile ma affronta anche tematiche di un certo rilievo in cui egli esprime sicuramente una propria eh capacità critica che poi non l'abbia saputa utilizzare nel periodo più tetro e più grave eh della della del ventennio questo è un altro discorso il fatto che appunto egli eh potesse anche anni dopo giustificare in qualche modo spiegare dare un significato alla alla legge alla legge che porta il il suo nome quella elettorale beh ci evidenzia anche una certa assuefazione sì a che Plutone deve fare riferimento fa riferimento al fatto che egli eh venne grosso modo negli stessi mesi ehm eh processato eh dalla Repubblica Sociale in contumacia e quindi rischiava la pena di morte da parte della Repubblica Sociale italiana ma rischiava anche la pena di morte dalle istituzioni del Regno d'Italia proprio perché dopo appunto la caduta del fascismo egli venne considerato responsabile eh del rafforzamento del ehm del regime quindi ecco il discorso dei due Plutoni in esecuzione perché egli per un certo periodo di tempo era imputato sia dalla Repubblica Sociale per un motivo sia da dal Regno d'Italia per un altro per il motivo esattamente opposto quindi diciamo è un po' il paradosso di molti degli esponenti che diciamo dal venticinque luglio in poi eh votarono eh contro eh Mussolini e in qualche modo ehm diciamo eh non tanto per una questione propria personale ma proprio per la scelta degli altri no ci si trovò di fronte a tanti nemici proprio perché non vi era solo bianco e nero perché appunto non è un discorso di essere più fascista o meno fascista in quel caso era una questione meramente di realismo abbiamo affrontato in nei video precedenti nelle dirette precedenti le figure di grandi di Ciano delle figure che non possono ovviamente essere definiti né antifascisti né afascisti erano fascisti pienamente fascisti perché diciamo eh ebbero dei ruoli importantissimi all'interno del regime e la proprio operato ehm ha condizionato enormemente l'evoluzione stesso del regime ma la la il passaggio del venticinque luglio eh fu essenziale per andare a capire eh le scelte sul domani su cosa si sarebbe potuto fare sappiamo appunto che la storia poi ci ha portato verso una eh una ehm un errore dopo l'altro no dove anche qualsiasi tentativo seppur maldestro della ehm della delle scelte politiche individuali o collettive appunto hanno portato poi alla disastro dell'otto settembre e alla divisione eh del dell'Italia quindi diciamo ci permette la anche le biografie dei singoli gerarchi di andare a capire un po' la la le vicissitudini dei vari e dei vari personaggi eh da ultimo e ehm poi andremo a passare al prossimo se no veramente arriviamo fino a domani mattina appunto io non ho io non ho problemi parlerei in eterno però diciamo che so che il nostro uditorio magari eh non non è sempre eh propenso a sentire la mia voce però a farti scherzi una cosa interessante che ehm mi ha sempre incuriosito è come ehm nel negli anni cinquanta no venne quindi siamo in piena repubblica venne ehm approvata la cosiddetta legge truffa la legge truffa che poi sarebbe stata una legge che durò pochissimo perché non non riuscì a ottenere i ehm i vantaggi che era una legge proporzionale che avrebbe avrebbe offerto un premio di maggioranza alla formazione elettorale o al gruppo elettorale che è un argomento abbastanza attualità no? I premi di maggioranza il fatto di di ottenere un numero più rappresentativo di seggi rispetto ai voti effettivamente ottenuti e mh e in quella circostanza la legge truffa eh dava un premio di maggioranza al partito o alla alla composizione dei partiti che avrebbero ottenuti eh il cinquanta per cento più uno ebbene e in qualche modo ricalcava ovviamente con le debite differenze numeriche quella che era stata la legge di Acerbo che invece assegnava a una minoranza anche di del venticinque per cento eh un il massimo dei dei voti e stranamente è una cosa la cosa curiosa è che vi fu delle una vignetta eh del una vignetta negli anni cinquanta in cui c'era una una volpe una volpe che aveva la coda con la falce e il martello che si rivolgeva all'uva ricordando la la favola della 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 volpe e dell'uva che non raggiungeva l'uva e diceva è acerba quindi c'era un chiaro riferimento alla legge Acerbo quindi come anche il gioco dei parole a distanza di decenni in cui appunto vi erano leggi seppur diverse ma che avevano uno stesso concetto di premio di maggioranza vi potesse essere anche riferimento ad Acerbo anche se erano passati ormai eh quasi quasi trent'anni quindi questo è interessante anche per andare a capire come un personaggio che di cui molto spesso non si sa non si conosce molto ma che il proprio nome ha più ha più fortuna rispetto alla a quello che effettivamente gli possa aver fatto passiamo al prossimo allora passiamo al prossimo è un altro simpaticone anche lui aspetta che lo metto presente eccolo qui eccolo qua giuseppe bottai giuseppe bottai è un'altra figura veramente iconica del del fascismo un un esponente che ci si stupisce di come egli possa essere stato fascista nel senso anche lui di grandissima intelligenza e anche passatemi di onestà intellettuale perché poi alla fine eh quando noi leggiamo il suo il suo diario che anche in questo caso un diario ricchissimo di informazioni un diario ricchissimo eh nel farci capire effettivamente chi era chi era bottai eh bottai che visse un percorso intellettuale di grande eh di grande ecletticità intanto qui lo vediamo in uniforme da ufficiale degli alpini intanto egli fu alpino sia nella prima che nella seconda guerra mondiale perché fece parte di quella schiera di ministri che Mussolini al verso il gennaio febbraio del 1941 mandò al fronte nel senso Mussolini era dell'idea in un momento di non so se di di più genio sregolatezza forse se solo sregolatezza pensò che visto che la situazione militare era pessima diciamo siamo passiamo nel gennaio febbraio del 1941 dove praticamente gli inglesi ci danno un sacco di legnate in Libia e i greci ci danno un sacco di legnate in in Albania quindi diciamo il uno dei dei periodi più bassi della eh della situazione militare beh dice per dare il buon esempio mandiamo i ministri al fronte quindi diciamo eh in qualche modo però è un è un doppio è un doppio con doppio obiettivo uno per un aspetto di propaganda se mandiamo i ministri al fronte facciamo intendere al popolo italiano che anche la politica partecipa alla guerra dall'altro si libera di questa gente al senso dice questa gente meglio che la mando via almeno a Roma faccio diciamo faccio comando io comandava lui comunque anche perché ricordiamolo Mussolini per lunghissimi periodi era il titolare di innumerevoli ministeri eh di cui solo ehm diciamo solo formalmente poi attribuiva l'incarico di sottosegretario ad altri personaggi più o meno eh più o meno compromessi con ehm con il regime però dicevo eh Bottai in questa sua parabola eh in cui svolse tantissimi incarichi lui fu ehm ministro del dell'educazione nazionale fu ministro delle corporazioni eh egli eh firmò due delle riforme più importanti del 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 regime quella appunto sulle corporazioni la carta del lavoro e la carta della della scuola egli aveva delle idee che in qualche modo erano lungimirante se pensiamo che egli con la carta della scuola in realtà poi sono queste due carte queste due ehm queste due ehm proposizioni legislative che poi in realtà non furono mai delle leggi propriamente dette tra l'altro non furono neanche delle leggi che vennero realizzate che concretizzarono il proprio dettato sappiamo che le corporazioni avrebbero avuto una lunghissima gestazione e in realtà poi le corporazioni non avrebbero mai avuto la loro eh concretezza a parte l'aspetto meramente formale della cosiddetta appunto camera dei fasce delle corporazioni nel mio cento eh trentanove si può dire che con Bottai nasce il corporativismo senza le corporazioni che si può sembrare una una contraddizione in termini ma il fascismo viveva di viveva di contraddizioni quindi non non ci stupisce neanche più di tanto questa cosa e un'altra riforma importante fu quella della scuola e dicevo la riforma della scuola di di eh Bottai che andava a fare una sorta di tagliando alla riforma gentile di cui dopo parleremo beh aveva degli elementi interessanti permettetemi ehm possiamo criticare Bottai per mille cose ma per il discorso la carta della scuola secondo me ci sono degli elementi interessanti perché se la riforma gentile era profondamente elitaria perché basava la propria eh la propria eh base sul liceo quindi su un ceto medio alto in cui appunto venivano ehm veniva messo da parte l'elemento tecnico cioè per gentile un istituto tecnico era veramente pari a andare a zappare eh per terra sì eh su beni culturali sì sì diciamo vi furono delle eh delle normative interessanti dicevo quindi la scuola di eh Bottai fu invece molto più egalitaria nel senso in cui si voleva includere una massa di eh studenti di alunni molto più ampia e possiamo dire che la riforma della scuola media unica che si sarebbe realizzata solo alla fine della in maniera sperimentale alla fine degli anni cinquanta e in maniera più eh consolidata negli anni sessanta beh partiva proprio da da Bottai quindi diciamo che abbiamo anche degli elementi interessanti che ci permettono di trovare non dico il fascismo ha fatto anche qualcosa di buono perché mi sembrerebbe eccessivo però troviamo degli elementi interessanti di comprensione di come nonostante tutto quello che possiamo dire di negativo sul fascismo vi furono degli elementi di fatto non era un codardo fece la prima no 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 la campagna d'Etiopia Bottai se lo guardiamo fatto questa battaglia battaglia dell'ambaradà sì 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 diciamo che cioè non è come starace eh che si faceva no esatto esatto mi hai tolto le parole di bocca nel senso se starace poi ci arriveremo alla colonna sì 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 diciamo starace era un tutto 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 fumo e niente arrosto ehm ehm Bottai paradossalmente è stato un umile un umile dice ma vabbè ma come è un umile quello è stato è stato governatore di Roma governatore di Addis Abeba è stato ministro di tante cose è un umile è stato un umile perché ehm se una una tra le varie pecche che possiamo rivolgere a Bottai ce n'è una che fosse troppo obbediente e ma obbediente ehm in maniera perché aveva il concetto dell'autorità egli eh aveva delle ottime idee sperava che la forza delle proprie idee potessero in qualche modo emergere ma si doveva scontrare sempre di fronte a un esercito di eh di lecchini di 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 arrivisti eh di eh di calcolatori che in qualche modo eh andavano a sopraffare eh le pro le sue idee tra l'altro ehm Bottai ebbe una grande delusione nella sua vita egli aveva una sola ambizione possiamo potremmo dire voleva di voleva diventare segretario del partito nazionale fascista probabilmente votò anche l'ordine grandi quindi sì in quel momento diventa intransigente sì il discorso è questo ehm Bottai ehm probabilmente sarebbe stato un buon segretario se 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 un segretario del partito nazionale fascista può essere buono nel senso che ehm aveva delle idee di grande eh apertura mentale e probabilmente avrebbe eh creato delle ehm sicuramente avrebbe risolto molti e molti problemi del partito nazionale fascista problemi che si portavano avanti da da sempre e che sicuramente il lungo settennale o di starace hanno solamente che eh accelerato e punto essendo tra l'altro ehm un altro elemento prima si parlava di beni culturali no? Eh Bottai che che era un grande letterato scriveva tantissimo un grafoma ne potremmo dire e aveva come grande suo pallino fondare riviste ha fondato una marea di riviste riviste anche che ebbero poca diffusione più o meno fortunate no? E aveva anche la capacità di scovare scovare eh dei giovani e quindi questa cosa eh creò molti problemi in Mussolini perché era invidioso perché aveva un circolo di intellettuali una sorta di ehm di vivaio ecco vivaio di intelligenze eh che in qualche modo sarebbero stati anche ehm si sarebbero sviluppati dopo la guerra avrebbe creato delle generazioni di intellettuali eh dopo la guerra ma anche intellettuali oppositori ovviamente al fascismo di 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 estrazione comunista quindi anche con eh la diffusione e la valorizzazione era un mecenato la protezione dell'arte pensiamo appunto a tutta una serie di generazioni guttuso cioè tutta una serie di di grandi intellettuali a 360 gradi di grandi ehm artisti che grazie a alla lungimiranza di di Bottai in qualche modo eh potessero eh emergere questa questa ulteriore foto ci evidenzia questo lunghissimo percorso che Bottai svolse in divisa abbiamo detto che non era un codardo ha partecipato a tutte e due le guerre mondiali ha partecipato alla guerra di Etiopia e dopo l'occupazione di Roma ehm riuscì in qualche modo per cercare anche di salvare la la pelle si arruolò nella regione straniera con un falso nome e quindi paradossalmente partecipò anche alla seconda guerra mondiale nelle file eh francesi e e combatté anche diciamo i tedeschi e poi venne anche scoperto al senso che lo venne riconosciuto perché ovviamente diciamo le bugie hanno le gambe corte e diciamo venne poi sotto ufficiale si si ma ebbe una una come si dice ebbe una eh com'è che si chiama già chiesi ebbe una eh lunghissima ehm una lunghissima ehm esperienza di tante di tante tante ehm occasioni per cercare anche di ehm superare e di scontare una pena e egli fu sostanzialmente angosciato perché egli era convinto che il fascismo sarebbe potuto essere migliore di quello che effettivamente fu e fu suo grande cruccio non essere riuscito a renderlo migliore quanto migliore potesse renderlo questo ovviamente è un po' un un dilemma della storia che non è è difficile che poteva renderlo una cosa eh accettabile ma sicuramente in bottai c'era la grande onestà intellettuale di poter in qualche modo eh voler contribuire a rendere ehm eh più moderno il fascismo perché voleva rendere più moderna l'Italia sicuramente non c'è riuscito sicuramente era impossibile farlo però un elemento sicuramente diciamo è il meno uno dei meno peggio della schiera che stiamo eh esaminando e tra l'altro è interessante come mh in tempi abbastanza recenti e qui lo vediamo con con Pavolini durante la guerra d'Etiopia sono sono con delle uniformi coloniali e mh Francesco Rutelli quando fu sindaco di Roma stiamo parlando ormai di circa 25 anni fa nella seconda metà degli anni novanta voleva 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 dedicare a eh Bottai un un piazzale uno slargo a Villa Borghese qui a Roma eh vicino alla facoltà di architettura che tra l'altro aveva che aveva visto anche tra l'altro come eh studente lo stesso Rutelli quindi diciamo voleva omaggiare un suo predecessore visto che diciamo che Bottai era stato governatore di Roma ossia sindaco di Roma eh solo che ovviamente era una giunta di centro-sinistra e quindi diciamo Rutelli non ebbe una grandissima idea a livello di lungimiranza e appunto poi venne sostanzialmente diciamo bocciata questa idea quindi non venne eh e forse è un bene ovviamente che non vi sia un 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 piazzale a ehm a Roma dedicato a Giuseppe Bottai anche perché anche in quella circostanza torniamo al discorso delle leggi razziali ci fu un'opposizione anche della comunità ebraica perché Bottai non fu tra quelli che si opposero alle leggi razziali sostanzialmente accettò a con mille mal di pancia per carità però non non fece nulla per per in quel caso visto che all'epoca che era ministro dell'educazione nazionale il discorso che non si non non si preoccupò affatto che gli ebrei potessero essere cacciati dalle scuole e dalle università quindi diciamo è un personaggio complesso un personaggio articolato che ci evidenzia tante sfaccettature e tante contraddizioni all'interno delle individualità del fascismo ma anche del fascismo nel suo complesso hai fatto vedere il lo stemma della disperata la disperata eh ha una grandissima importanza nel discorso che stiamo facendo perché perché rappresenta sia una eh formazione di eh eh di camicie nere di squadristi che operò a Firenze nei primi anni venti di cui Pavolini in qualche modo essendo fiorentino aveva qualche contatto era molto giovane ma venne utilizzato il nome e il simbolo di quella squadraccia fiorentina per denominare una eh squadriglia durante la guerra d'Etiopia eh una squadriglia che aveva tra i suoi personaggi principali diciamo Bottai e ebbe un ruolo minimale ma sicuramente eh Pavolini e eh Galeazzo Ciano e qui anticipiamo un argomento di cui dopo parleremo di come Galeazzo Ciano e Pavolini furono sostanzialmente le due facce della stessa medaglia però lo diciamo lo diciamo meglio dirlo dopo perché sennò poi anticipiamo troppo per concludere su Bottai quindi Bottai è un personaggio estremamente complesso eh ripeto un grande intellettuale eh un conoscitore della letteratura dell'arte anche egli una penna sopraffina che capiva numerosi problemi poi che li sapesse risolvere è un altro paio di maniche però sicuramente si poneva delle domande delle domande che diciamo non era così comune farsi c'è un certo tipo di domande all'interno del del regime e diciamo che in qualche modo il tentativo di ammodernare la società e lo stato italiano attraverso le corporazioni che poi ripeto furono sostanzialmente un fallimento e la riforma della scuola nel cercare di eh andare ad aggiustare le carenze le disuguaglianze prodotte dalla riforma gentile sicuramente sono degli elementi a suo a suo favore prossimo prossimo gentile ah gentile ah da dietro è quello dietro sta in in io mi guardavo quello accanto a a mussure invece gentile è dietro allora gentile è un personaggio ovviamente arcinoto e ne abbiamo parlato eh poco fa parlando proprio della sua riforma un un personaggio a tutto tondo di cui molto spesso si parla su gentile si parla essenzialmente per due cose la riforma gentile la riforma e la sua morte e il suo assassino dimenticando tutto ciò che c'è stato prima della riforma e tutto ciò che c'è stato tra la riforma e l'assassinio eh di gentile gentile può essere definito come il rappresentante di un un modo di fare eh un un tipo di intellettuale che ha vissuto l'esperienza liberale come un elemento di eh crisi e superamento eh eh ovviamente è essenzialmente un filosofo no? ovviamente lo sappiamo un filosofo che eh ha trovato nella nell'idealismo ma in un idealismo particolare in cui vi era l'elemento dell'attualismo più che l'idealismo. Esatto. Croce era più l'idealista no? Sì eh sì perché 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 il problema di 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 Croce e qui scusate di di Gentile in contrapposizione e in confronto con 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 Croce è un continuo mettersi in discussione ecco perché parlavo di idealismo come base di partenza di quel percorso che poi arriverà all'attualismo ma perché perché ehm sono due sono stati due intellettuali che seppur diversissimi hanno collaborato insieme con grande profitto perché poi dopo nella loro carriera si sono si sono staccati e e rincontrati spessissimo ripeto nonostante le loro al grandissime differenze di fatto che uno poi diciamo sarà il portavoce il propugnatore del manifesto degli intellettuali fascisti e dall'altra parte invece abbiamo il l'esponente più importante della del manifesto degli intellettuali antifascisti quindi diciamo che potremmo dire il diavolo è l'acqua santa capendo bene chi è il diavolo e capendo bene chi è l'acqua santa ma ehm l'elemento interessante di questo confronto è che vi è la costante ricerca di qualcosa di di dopo cioè cercare una raffinare il proprio pensiero con Gentile questa cercare la di raffinare la propria che dice hai letto quanti nomi ci rispondo io con la mia sola firma a quella sino di croce beh giusto giustamente 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 la 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 come si chiama la la l'ignoranza la il farinacci con la sua eh nota non solo ignoranza ma anche eh stupidità potremmo dire qui qui notare anche i dettagli che ci sono all'interno di questo perché in realtà è tutto nascosto no come al collega farinacci a quel savio gentil che tutto seppe eh ma c'è il becco giallo pieno di sì ci sono allora è una vignetta ricchissima di dettagli c'è il becco giallo eh impiccato eh ci sono cioè tutta una serie di esatto ci sono tutta una serie di ehm di riferimenti di grande di grande eh di grande interesse dicevo per quanto riguarda eh Gentile diciamo su Gentile non mi voglio soffermare moltissimo perché è un personaggio molto noto ma l'elemento interessante è da eh focalizzarsi sulla sua eh la sintesi filosofica e politica nella eh nel inserimento dell'uomo all'interno dello stato uno stato assoluto uno stato etico quindi che rappresentasse lo stato come la la sintesi perfetta della ricerca dell'essere individuo all'interno di una società e questo sarà l'elemento che lo porterà per tutto il periodo del ventennio fino al periodo della Repubblica Sociale Italiana in cui egli per convinzione o per interesse non non è importante capire per quale motivo lo ha fatto secondo me per convinzione anche se molti dicono che ci fanno degli interessi ne fa rientrare il figlio dal fronte dalla Germania ci sta tutto per carità però secondo me più per per convinzione il fatto che egli credesse ancora e stiamo parlando del milo cento eh quarantaquattro eh credesse ancora che l'esperienza del fascismo potesse essere rigenerata all'interno di un tentativo di rigenerazione eh collettiva quindi diciamo ma Mussolini allora il notare il suo cognome Fabris sì beh ci sta è anche la la foto con l'ivan cliff nel nel cattivo quindi diciamo è tutto un programma ha fatto una fatto una domanda ehm pertinente nel senso il punto è e qui non mi non mi stancherò mai di dirlo Mussolini non ebbe mai l'obiettivo di essere coerente con se stesso a Mussolini interessava soltanto mantenere il potere in qualsiasi momento della sua storia politica all'interno della formazione di eh governo quindi che che fosse il eh trenta novembre milano cento ventidue fino arrivare al ventotto aprile del quarantacinque quando viene fucilato bene in questo periodo egli costantemente il suo obiettivo costante è quello di mantenere il potere in quale modo come si può resumere la filosofia di Gentile beh attualismo cioè nel senso una filosofia pragmatica esatto attuabile sulla società non alta come può essere che so l'esistenzialismo di Sartre cose del genere dei voli pindarici molto pratico un po' come era il fascismo un po' gretto un po' greve ma infatti ma infatti questo è l'elemento interessante per comunemente si dice che il fascismo non ebbe cultura che il fascismo non ebbe un ideale a cui eh su cui poggiare le proprie basi e in effetti è vero nel senso che non ebbe un eh una dottrina tale da poter caratterizzare il pensiero fascista Gentile in qualche modo cercò di supplire a questa carenza ma anche come giustamente ha detto Mirko non ci riuscì perché non c'era una base ideologica coerente ma era una continua approssimazione successiva una continua necessità di cogliere l'attimo che si andò a sviluppare attraverso tutta una serie di politiche che andavano a toccare gli interessi del momento il fascismo fu eh vicino al popolo vicino a alle masse operarie fu vicino agli industriali fu vicino ai militari fu vicino agli agricoltori quindi capiamo bene come le vicino alla chiesa vicino allo al re quindi c'è un'evoluzione costante in cui ogni in ogni circostanza si andava a tarare quale potesse essere la migliore occasione per continuare questa spiegazione di Filippo Capitello Dorico Massimo Ionico Maico Rinzio sì tutto è nulla nel senso delle fasi della convenienza esatto esatto c'è il discorso di capire come l'evoluzione anche della politica estera no cioè se se uno pensa come fino al 1900 almeno fino al 1935 36 Mussolini guardava con profondo sospetto la Germania con sovrano disprezzo a talune dottrine d'oltre tanti ignoravano come tramandare i loro scritti in un tempo in cui da noi c'era già Virgilio Cesare Augusto aspetta eh aspetta quando no aspetta ehm quando noi ci avevamo eh sì Cesare Virgilio Augusto sì 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 era così la citazione sì eh alla questa è venne fatta alla a Bari nel 1934 alla il discorso è qui scusami mi sono perso è il fino al 1935 quindi guardavano con sovrano disprezzo dall'unica dottrina che si riferiva all'antisemitismo sostanzialmente e poi l'avrebbe fatto l'antisemitismo ma alla all'Angelus l'Angelus per Mussolini fino al 1935 36 era il la una dichiarazione di guerra e nel 1938 accetterà l'Angelus senza colpo ferire anzi eh quasi con compiacimento perché in qualche modo si andava ci si andava a sbarazzare di un'entità eh creata dal sistema di Versailles quindi cioè capiamo bene come l'evoluzione stessa eh dei presupposti politici delle posizioni politiche fosse talmente cangiante ma veramente non dico dalla sera alla mattina ma poco ci manca in cui appunto ehm per la decisione di entrare in guerra da memoria di Ciano decise da Mussolini in un'annottata perché aveva aveva letto dei giornali francesi che prendevano cioè anche contro loro stessi eh contro i loro stessi interessi prendevano per il culo la la non belligeranza italiana cioè come era volubile l'animo di Mussolini anche allo schermo ma ci mancherebbe ma ma se pensiamo anche dopo eh i tentennamenti le accelerazioni e e le frenate eh nell'attacco alla Grecia cioè l'attacco alla Grecia se ne parla già da d'agosto agosto lo verrà a sapere dai giornali esatto e però poi dopo cosa quando piccolo retroscena cosa che farà incazzare tantissimo Hitler perché in quel momento era colloquio con Franco che si ritrasse subito perché disse se questi sono gli alleati che prendono no e fanno cose così lui stava cercando di attirarlo nell'orbita invece la mossa di Mussolini ha allontanato franco sì cioè ehm vabbè lì lì in Mussolini scattava anche l'invidia l'invidia perché negli stesse lì l'attacco alla Grecia sostanzialmente viene fatta perché la Romania era entrata nell'orbita tedesca quindi diceva noi non possiamo essere meno meno ehm impegnati nei Balcani di una guerra parallela no esatto di quanto lo possa essere la Germania se c'è se la Germania ha ottenuto dei vantaggi nella zona danubiano balcanica anche noi dobbiamo avere le nostre soddisfazioni ma è sostanzialmente la la stessa situazione che si era realizzata un anno e mezzo prima il 15 marzo del 1938 eh scusate nel 1939 eh la la Germania eh invade la eh la Ciecoslovacchia che che si che si frantumerà e dopo un mese l'Italia attacca l'Albania è un gioco è un gioco a rialzo nel senso tu fai questo allora faccio questo perché se no sembro meno di te e quindi questo è un gioco continuo dove ovviamente l'Italia che non ha mezzi non ha il la le materie prime che non ha neanche la la coerenza perché parliamoci chiaro i tedeschi che sono stati dei criminali su tutta la linea erano coerenti con loro stessi cioè ci credevano a quello che facevano ai crimini che facevano ci credevano gli italiani neanche ci credevano hanno fatto le leggi razziali che sono stati eh ci sono stati nefaste sono stati dei dei degli abomini ma neanche convinti di quello che facevo ma solo perché in quel momento gli conveniva per poi ogni tanto vabbè ma ma in realtà poi le leggi razziali non è che sono state così invasive perché in fin dei conti gli abbiamo solo tolto i diritti gli abbiamo solo tolto le proprietà gli abbiamo tolto soltanto le cose e beh ti pare poco il senso che ciao sì dopo ci sarà anche la l'eliminazione fisica degli ebrei per il periodo tra il 38 e il 43 non li hanno eliminati fisicamente ma li hanno resi pari a a a a a dei dei reietti del senza diritti domanda tornando al gentile no il parere di montanelli era che fu una delle poche riforme decenti che siano mai state fatte della scuola tu sei lo stesso parere di montanelli no 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 perché quello che ti dicevo prima la riforma gentile ehm fu una riforma secondo me assai sbilanciata nel senso che dava una eh importanza enorme anzi un'importanza unica ai licei e soprattutto al liceo classico dove appunto lo studio ho visto fusaro difenderla allacremente non è che il discorso di 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 se se fusaro la 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 difende o meno mi mi tocca molto l'idea che mi sono fatto ripeto ehm mi è piaciuto più quello che ha fatto bottai nel cercare di riformare la la riforma che era iniqua perché appunto sostanzialmente la riforma gentile è la cosiddetta riforma che rende notai solo i figli dei notai e contadini e i figli dei contadini possono continuare a fare solo i figli solo sui contadini questo è il discorso una riforma elitaria una riforma ehm censuale dipende al al censo che appunto tra l'altro con dei riferimenti io adesso farà vedere Mirko sicuramente delle immagini che gli ho mandato proprio oggi pomeriggio che mi è venuta una sorta di ehm di illuminazione sulla via di Damasco che eh qualche giorno fa ho ritrovato delle pagelle del 26 27 adesso Mirko poi le farà vedere e le potremmo commentare insieme una pagella sola sono due foto adesso le trova ecco questa è una pagella rilasciata Cecini Giovanni che non sono ovviamente io visto che questa eh beh li porti bene eh e questa pagella è del 1927 era di mio nonno che di cui ho porto il nome il 728 c'ho anche c'ho anche quella la classe quarta poi lui si si è affermato che era era figlio di contadino e faceva il contadino ecco qui torniamo a bomba nel senso che il figlio del contadino può arrivare alla quarta elementare più di quella non può quindi ho trovato queste pagelle della terza elementare e quarta elementare perché mio nonno era era in Abruzzo in provincia dell'Aquila anzi provincia Aquila perché all'epoca si chiamava Aquila e non l'Aquila e e e un figlio del contadino poteva fare solo il contadino e fermarsi alla quarta elementare ma la cosa interessante di questa pagella e sfogliandola aprendola proprio mi è venuta in mente una cosa che alla prima alla prima eh alla prima eh riga c'è religione indicare se ricevuto dalla famiglia che potrebbe sembrare una un dettaglio tra virgola tra parentesi in signora era bravo eh buono lo devo le buono sì 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 no diciamo con quello che diciamo per quel caputo studiare se la cavava se la cavava bene e dicevo ehm è interessante perché ci fa capire l'importanza della religione per la riforma gentile allora per gentile la religione era fondamentale nel senso che era l'elemento eh che permetteva all'individuo prima individuo in senso eh essenziale di 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 essere e poi come cittadino di collocarlo all'interno di un ente più generale e quindi la religione doveva essere la base fondamentale per l'indottrinamento del eh del bambino sin dalle elementari e la cosa interessante è religione indicare se ricevuto dalla famiglia perché siamo ovviamente prima della eh dei patti lateranensi tra l'altro dei patti lateranensi che gentile in qualche modo criticò quindi diciamo che ci fa capire pure come la sua concezione del rapporto con la religione istituzionale era molto variegata non era uno che accettava non era un ultras dei cattolici no assolutamente non era questo e gli riteniva la religione così fondamentale che eventualmente avrebbe accettato l'esonero dallo studio della religione a scuola se la famiglia avesse dichiarato che già in casa veniva eh veniva eh somministrata un'educazione religiosa quindi è interessante anche capire come la scuola non era esclusiva nello studio della religione in quanto elemento essenziale per la eh crescita ehm per la crescita eh intellettuale e morale del del bambino tant'è che appunto poi dopo le elementari veniva anche introdotta la filosofia quindi però nella filosofia come elemento seguente elemento importante era ehm no questo è l'altro nonno questo è la io ho nonna del padre di mia madre era aviatore anche lui abruzzese ho tutti io ho due nonni c'avevo due nonni tutti e due abruzzesi però di due parti dell'abruzzo diverso eh quello era era il padre di mia madre questo invece il padre di mio padre giustamente porto lo stesso cognome e il nome e mh dicevo quindi è interessante co di come la l'istruzione religiosa potesse essere potesse essere un esone la scuola se se era stata già somministrata dalla famiglia quindi ecco come vi è anche un eh introduzione di come l'istituto della famiglia fosse in sinergia con l'istituto scolastico quindi diciamo è è è come finisci Gentile? Gentile lo finisco con la sua morte con la sua morte che che ha creato un sacco di 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 polemiche un sacco che ancora oggi si parla della morte di Gentile ah poverino è stato ucciso da questi cattivoni tra l'altro a parte che non non si è mai capito veramente chi lo abbia ucciso nel senso che sì ufficialmente sono stati eh un gruppo di un manipolo di di partigiani eh comunisti che lo hanno eh lo hanno giustiziato perché considerato responsabile di una escalation di violenza durante la Repubblica Sociale Italiana ma allo stesso tempo ci sono delle piste degli indizi che ci portano a eh definire la sua morte eh l'ultimo atto di uno scontro tra fazioni diverse all'interno all'interno della Repubblica Sociale quindi è una morte assai dibattuta ancora oggi e anche in questa circostanza ci offre un personaggio che aveva tanti nemici ma aveva nemici da tutte le parti tra i fascisti e gli antifascisti perché era essenzialmente un una mente pensante ma una mente pensante che purtroppo per lui aveva avuto una sua evoluzione secondo me peggiorativa però è una mia opinione personale una un'evoluzione che però lo portava a essere in viso a moltissimi anche tra gli stessi fascisti quindi diciamo che è un personaggio di cui si parla ancora oggi essenzialmente per la sua riforma e per la sua morte mh bisognerebbe approfondire anche gli altri temi però diciamo che sono degli elementi importanti per capire una figura particolarmente eh eclettica della eh e divenne un martire sostanzialmente poi divenne divenne un martire della anche della Repubblica Sociale Italiana nonostante fosse sgradito a molta della eh del dei vertici della stessa Repubblica Sociale Italiana poi venne a essere innalzato come uno dei ehm dei grandi pensatori del fascismo degli elementi importanti appunto visto che ha avuto anche delle occasioni di pubbliche di elogio nei confronti di Mussolini della stessa rifondazione fascista eh nella Repubblica Sociale eh italiana. Qui abbiamo Cianetti. Cianetti eh un personaggio particolarmente interessante che io definirei quasi un bottai in sedicesimo è una definizione molto transciante adesso vi dico eh buonasera anche a te ehm Cianetti umbro di nascita con delle origini umilissime umilissime anche lui ha lasciato una suo volume di memorie ehm in cui anche 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 lui anche lui che ehm diciamo ehm inserisce in questo volume di memorie tra l'altro un volume di memorie esatto eh eh a ritroso nel senso che lui le scrive durante la sua eh carcerazione a Verona quindi una sorta di eh bio autobiografia in retrospettiva in cui lui siamo curato da De Felici quindi sì 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 ma questi volumi alla maggior parte delle opere ce ne sono due allora c'è la serie di quelli rossi e c'è la storia di questi volumetti neri con le bande verdi che potete trovare a due spicciolate e sono tutti dedicate alle memorie di vari esattamente questi volumi della Rizzoli che sono diciamo grosso modo degli anni ottanta stiamo parlando degli anni ottanta e ci sono e la stessa della stessa collana sono le i diari di Ciano sostanzialmente diciamo i diari di Ciano i diari di Bottai c'è tutta una serie di questi volumi di grande interesse della Rizzoli che appunto guarda io ho comprato tutta la collana per cinquanta euro ho detto tutto sì 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 no ma diciamo io guarda eh questo mi ricordo che lo comprai mi pare su ebay a non più dei setto otto euro ehm quindi diciamo che sono dei volumi di grande interesse a parte che si trovano delle informazioni molto interessanti anche della società dell'epoca per esempio appunto visto che Cianetti appunto aveva umili origini e tra l'altro la figura di Cianetti si ricolloga all'interno di quella realtà appenninica del fascismo mi spiego eh apro una parentesi ma la chiudo subito noi siamo soliti pensare al fascismo eh agrario della Valle Padana eh della Toscana che fu sicuramente la parte più rilevante del fascismo sia di quello urbano ma soprattutto di quello eh delle campagne ma vi fu un fascismo non meno interessante della zona appenninica e in particolar modo dell'Umbria e dell'Abruzzo e questa esperienza di queste due regioni le troviamo per quanto riguarda l'Umbria Cianetti e Bastianini di cui abbiamo parlato l'altra volta e per quanto riguarda l'Abruzzo abbiamo esponenti come ehm Acerbo di cui abbiamo parlato ma anche Adelchi Serena di cui parleremo eh prossimamente e quindi c'è eh ci esprime come vi potesse essere una realtà eh particolarmente anche disagiata e diciamo le memorie di Cianetti sono particolarmente anche un po' da libro cuore se noi leggiamo le memorie di Cianetti un 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 una sciacura dietro l'altra al senso di di morti di lutti di di povertà assoluta il fatto che lui doveva essere mandato eh nei conventi a studiare perché non avevano i soldi perché veramente la madre cercava di 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 arrabbattarsi con mille mestieri sempre malata quindi veramente un ho letto le memorie di Cianetti mi stava venire il magone per quanto era le miserables sì guarda una cosa una cosa una cosa veramente di 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 grande tristezza poi se uno pensa che lui l'ha scritte nella nella carcere di Verona rischiando di essere fucilato poi si salvò perché aveva sostanzialmente abbiorato il suo voto eh durante il venticinque la la notte l'unico sì quindi fu l'unico eh tra i presenti quindi tra i non i contumaci tra i i imputati presenti che non venne fucilato quindi diciamo che venne sostanzialmente condannato a una lunga pena detentiva perché lui si era durante la notte tra il ventiquattro e venticinque luglio si era praticamente talmente aveva rielaborato il suo voto tant'è che lui l'altro arrivò alla alla seduta del gran consiglio non troppo con le idee chiare eh cioè diciamo la ehm ci sono ultimamente sono 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 usciti diversi libri molto interessanti sulla sul venticinque luglio non ultimo quello di 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 Emilio Gentile cioè quello di Emilio Gentile secondo me è il migliore per andare a capire di come vi fosse la ehm la preparazione anche emotiva di questi partecipanti che vanno lì senza sapere di cosa di cosa poi andranno a votare nel senso che no ma soprattutto il rimando di ventiquattro ore dove loro pensano a una grazia eh Pavolini che scrive addirittura la grazia forse una paraculata che poi non verrà mai inviata no queste cose sì e loro che loro che si vestono aspettano di essere uccisi dicono ma che facciamo io non ho voglia di svestirmi e tornare a letto no? Eh quindi c'è anche questa fase stranissima no dove loro aspettano. Quindi è una una figura particolarmente interessante e perché ho detto che è un bottai in sedicesimo? Perché eh Cianetti che si avvicina alla politica dal sindacalismo e lui è nasce sindacalista diciamo i temi sociali di vicinanza eh nei confronti dei più umili e questa è una foto interessante ehm Cianetti partecipò a De Glinco andò in Germania varie volte eh in collaborazione con i sindacati tedeschi quindi fu particolarmente attivo anche nelle nelle relazioni con eh gli omologhi eh gli omologhi eh nazisti eh in cui appunto andò a visitare industrie andò a visitare la condizione dei lavoratori eh in Germania e tra l'altro andò a visitare anche la condizione dei lavoratori italiani in Germania quindi è interessante anche questo diciamo che non è un elemento da da poco e Cianetti ehm ci evidenzia secondo me in maniera molto molto affascinante di come un ehm un personaggio che fino a un certo punto avesse la sua eh unica ambizione quella di servire i lavoratori nel senso proprio tecnico dei sindacati nel senso di diciamo perché ehm voglio fare il mio lavoro perché ritengo che il sindaco che i lavoratori possano migliorare la propria condizione anche all'interno di un discorso delle corporazioni perché poi dopo si inserisce all'interno di quel discorso che abbiamo fatto prima in cui l'evoluzione stessa e qui bisogna aprire de de otto parentesi ma mi taccio perché veramente se no andiamo a affrontare anche eh proprio la la natura del 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 corporativismo all'interno del regime fascista ma veramente sarebbe troppo dispersivo ma l'elemento interessante di capire come Cianetti più ha avuto la sua progressione di carriera all'interno del sindacato e poi sia entrato nel cosiddetto Santa Santorum delle eh girarchie del regime fino a provare appunto a incarichi ministeriali potesse essere affabulato dal potere e quindi dimenticare un po' da dove proveniva tant'è che arriviamo agli scioperi del marzo aprile del millenovecento eh quaranta 43 in cui sostanzialmente fa dei comizi in cui gli operai gli tirano i pomodori nel senso non non come si dice non è non parla più lo stesso loro linguaggio e questo è interessante per capire appunto l'evoluzione di un personaggio che aveva una sua eh componente eh è anche etica passatemi il termine di mh servizio verso chi aveva bisogno e poi però si fa affabulare dal 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 marasma generale del del potere autoreferenziale allora a vedere Cianetti in queste foto fa venire i brividi nel senso che insieme a questo sembra di nero eh sembra di nero sì in come si chiama storo scatenato sì 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 no diciamo Cianetti di fronte a questi per tanto ci sta pure qua Pavolini poco poco due due col baffetto due eh due commensali appresso questi ecco sì ehm poi sei sempre guarda sempre l'obiettivo era molto fotogenico se si piaceva gli piaceva apparire eh anche perché appunto evidenzia l'animo del parvenu un pochetto no? Senza il fatto che lui appunto avesse eh tra l'altro lui eh durante la visto che aveva era riuscito a studiare durante con grossa fatica quello che vi dicevo no? Con difficoltà eh notevoli ehm eh riuscì ad essere ehm ad accedere ai corsi eh di come allievo ufficio di complemento durante la prima guerra mondiale ed egli essendo molto timido e molto ehm anche modesto quando alla fine del corso eh si prospettò l'idea di poter andare in artiglieria o in fanteria e diciamo che la fanteria era più più terra terra nel senso che l'artiglieria era l'armadotta no? Diciamo che diciamo era era più autorevole veniva dall'artiglieria esatto era più autorevole l'artiglieria rispetto e lui inizialmente diceva vabbè ma pure la fanteria andrebbe bene ma contento la fanteria e ci fu un suo superiore dice ma come scusi Gianetti lei ha a qualità perché non potrebbe ambire andare in artiglieria poi appunto venne dirottato in artiglieria ma sempre molto titubante sul poter ehm mettere in valore le proprie le proprie qualità le proprie attitudini e questo è secondo me ripeto è un è una sfaccettatura interessante per andare a capire la figura di Gianetti di un personaggio appunto che si evolve insieme al fascismo che sostanzialmente ha ha visto la sua il suo eh crescere sociale all'interno come dicevo dei sindacati tra l'altro con delle esperienze molto variegate eh andò in Sicilia un paio di volte con grande titubanza per una realtà che lui reputava a degli aliena ma poi si trova molto bene quindi diciamo che una a cui abbiamo anche dei dei riferimenti ai miei video vedo vedo che eh prendi spunto da eh miei video che in qualche modo è i grandi artisti rubano eh ma ma guarda che che tu mi possa rubare per me è solo che è un onore il senso che non non posso ambire a a a a di più il senso che 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 il tuo canale popote canale eh vada a prendere ispirazione dai miei video sono più che onorato e questi e questi video che ho fatto appunto mh anche in preparazione di di questo volume ripeto che ho che ho scritto di queste trenta biografie tutto l'anno scorso sostanzialmente avendo le mie uniche letture erano queste queste memorie di questi personaggi no? E quindi mi capitava spesso di di essere ehm talmente colpito da alcune pagine in questo caso questo incontro eh il primo incontro che vi fu tra eh Hitler e Mussolini del trentaquattro eh che appunto nel racconto stesso di Gianetti quindi è interessante di come proprio in queste libri di memoria di memorie possiamo avere degli spaccati personali ma anche di grande ehm di grande vicinanza di alcuni avvenimenti che magari conosciamo perché lì non so questo incontro eh eh esistono dei video no? Esistono dei dei cinegiornali di questo incontro prima a Venezia poi a che li fa fare di anticamera era vestito in borghese esatto col cappellino si capisce molto i rapporti di forza dell'epoca ma certamente ma certamente questo ehm permettetemi di di dirlo ehm mi viene in mente è morto poche settimane fa Gianni Bisiac eh che io ho avuto anche la 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 fortuna di 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 conoscere eh io mi ricordo che ehm uno dei suoi dei suoi delle sue puntate di grandi battaglie che fu una serie molto fortunata della seconda metà degli anni novanta in cui andava a tratteggiare eh alcuni momenti interessanti della seconda guerra mondiale ma c'era una il uno dei primi eh episodi in cui raccontava anche l'evoluzione di come il il nazismo avesse imitato il fascismo e raccontava anche attraverso le interviste ad alcuni personaggi c'era l'intervista a Dolman Dolman che diciamo Dolman è un personaggio eh molto chiacchierato molto influente nella all'interno del regime nazista ma anche nel rapporto tra l'Italia e la ehm l'Italia e la Germania e raccontava lo stesso Dolman in intervista a Gianni Bisiac diceva in quella circostanza Hitler era piccolo piccolo era piccolo per il senso dire Mussolini era il maestro e lui era l'allievo cioè nei rapporti di forza quasi era per cercare guzzanti no ma come si è subita l'alleanza con un bianchino austriaco gli si è insegnato noi lo si veniva a prendere al treno come un bimbo che lo si porta in villeggiatura no ma 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 uno uno è il discorso di come l'allievo ha superato il maestro e l'ha superato diciamo in orrore diciamo alla grande ma veramente in quella circostanza secondo me da da quelle immagini da questo atteggiamento guardato ho trovato online il primo colloquio perché c'è per due ore Montanelli diceva giustamente Hitler ha sempre avuto questo amore profondo per il amore non ricambiato tra l'altro per il maestro ma amore non ricambiato perché se per il semplice motivo che c'è secondo me si può dividere in due in due momenti allora in un momento Mussolini snobbava Hitler perché lo reputava lo considerava poco poi c'è stato questo salto che lo ha portato in un battibaleno ad essere colui che teneva il mazzo in mano possiamo dire intorno tra il 38 e il 39 in cui è Mussolini che comanda possiamo dire che la conferenza di Monaco settembre 1938 è l'elemento lo spartiacque in cui Mussolini scusate Hitler prende il sopravvento ed è lui che comanda la baracca nel senso che però è un'illusione cioè Mussolini si vanterà di aver fatto da pacere vi ha portato la pace un po' sì ma è un è un è un era un po' passo era un po' passo non si non si rende conto che si dice che il documento fu scritto dai tedeschi Mussolini lo presentò e basta sì sì ma si dice che l'ha scritto Gehring cioè che fosse un un documento già che Mussolini arriva lì a Kufstein al al confine tra tra l'Austria e la Germania e ed è lo stesso Gehring che gli dà il documento cioè questo è il documento che domani questi firmano e non è che ci stanno altre altre opzioni anche perché se non firmano noi comunque la 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 cicoslovacchia e la i sudeti le li invadiamo quindi non è non è un problema non è un problema più nostro quindi o accettano eh in maniera pacifica di farci dare i sudeti ma noi i sudeti ce li prendiamo comunque parlato piccola parentesi questo è il momento in cui c'è la cospirazione di Oster cioè dove i i comandanti tedeschi dicono questo ci porta alla guerra se i francesi e gli inglesi ci appoggiano ed entrano deponiamo Hitler invece sarà proprio Mussolini con questo appoggio e poi anche gli inglesi e tutti gli altri con la politica dell'appeasement che addirittura eh disinnescheranno la cospirazione di Austria un giorno ci devo fare un video tra l'altro perché è poco conosciuta insomma sì ma vedi è tutto tutto d'ora no eh prima abbiamo parlato della evoluzione eh del fascismo eh con la sudditanza nei confronti della Germania eh elencando nel 1938 l'indifferenza per la sorte dell'Austria marzo maggio la visita di Hitler in Italia l'estate del 38 inizia la campagna razziale antisemita e a settembre abbiamo il l'incontro a Monaco tutto si spiega come il 1938 è un un eh progressivo scivolamento del fascismo di Mussolini e dell'Italia nelle braccia mortali della Germania ma non ci si rende conto perché si crede in quel e Mussolini crede ancora di poter avere un vantaggio un vantaggio pensando stiamo allungando i tempi della guerra nel senso noi non siamo pronti quest'azione ritarderà la guerra non si rende conto che sta semplicemente scavandosi la fossa e ci si sta buttando dentro perché dopo dopo neanche un anno firma il patto d'acciaio con la Germania un'alleanza off difensiva offensiva cioè io non ho idea leggendo le pagine di Ciano quando Ciano va a firmare il patto d'acciaio lo legge dice ma siamo sicuri di quello che stiamo firmando questo ci stiamo mettendo il cappio nel mezzo nel collo cioè questa qui è un'alleanza che ci porterà alla morte questo Ciano ne è consapevole nel maggio nel 1939 ma firma perché il suocero gli ha detto di firmare quindi veramente troviamo delle situazioni raccapricciare 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 andiamo davanti come finisce il nostro amico Cianetti finisce che ricercato pure lui dai fascisti dagli antifascisti è pure lui un personaggio particolare a certo punto come molti di questi reduci di 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 mille avventure di mille complicazioni eh fugge e va in in Mozambico in Africa in un paese della del sud del sud est eh Africa insomma in Mozambico da quelle parti quindi diciamo che finisce la sua vita in maniera da esule da esule o da da scappato diciamo da 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 Roberto Farinacci allora Roberto Farinacci è so che toccando questo tasto se per caso Metal Mike capita da queste parti che ci intercetta diciamo stiamo dando mettiamo benzina sul fuoco buttiamo benzina sul fuoco Roberto Farinacci che io credo che Metal Mike conosca almeno 20 o 30 insulti nei suoi confronti diciamo di quindi è un personaggio di un personaggio di un ehm di un una perfidia un'arroganza una eh faccia di bronzo perché poi in realtà Farinacci non aveva qualità nel senso che l'unica sua qualità era essere uno sbruffone essere un ehm un prepotente ecco il prepotente si dice Farinacci è un prepotente un uomo che era intellettualmente intellettualmente limitato perché riuscì a ottenere il titolo d'avvocato in maniera rocambolesca senza nessun tipo di merito senza nessun tipo di ehm di capacità propria nel senso che ehm era stato ferroviere ma in realtà poi non non aveva fatto grandi grandi cose neanche nelle ferrovie quindi diciamo è un uomo che è andato avanti nella proprio nella propria progressione politica e sociale con la faccia tosta di di se stesso colui che eh continuò a essere potente all'interno del fascismo nonostante poi non avesse più cariche perché poi lui fu uno dei primi segretari del partito nazionale fascista ma sostanzialmente poi nel venticinque ventisei già fu estromesso ma era uno che eh sapeva corrompere e sapeva ottenere tante informazioni tante informazioni che mettevano in difficoltà anche lo stesso Mussolini e quindi Mussolini capì che eh Farinacci che poteva fare male alla stessa famiglia Mussolini era un uomo che conveniva tenerselo buono magari eh offrendogli ogni volta in pasto qualcuno tant'è che Farinacci riuscirà a eh eliminare nel corso della sua carriera almeno due o tre segretari del partito nazionale fascista dopo di lui eh e Mussolini non fece sostanzialmente nulla perché sapeva che è un tipo D'Alema tipo D'Alema sì se potremmo dire sì un D'Alema in camicia nera no a parte gli scherzi diciamo poi magari ci ci magari magari ci poi c'è D'Alema ci 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 denuncia pure no a parte gli scherzi dicevo nella sua eh essenza Farinacci che appunto ripeto ehm riusciva poi con il suo studio legale no che ripeto non aveva grandi qualità tecniche del dell'arte del della della legge no più che eh la la forza della legge era la legge della forza nel senso in cui il messa ah pensavo volessi mettere tipo piazzale Loreto no volevo capire cosa era l'automoto avio credo che sia olio olio di ricino eh sì comunque dicevo la ehm il suo studio legale difendeva i i peggio sozzoni nel senso che eh con la capacità di eh qui questa è una foto stupenda cioè bottai e e e e farinare il diavolo all'acqua santa pure qua ci abbiamo veramente un fa impressione a vederli insieme cioè di 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 due eh due anime completamente diverse del fascismo acqua e olio sì da una parte uno che era intelligente che si faceva anche manovrare per la sua intelligenza eh come come diceva come diceva ehm Balbo riferendosi a Bottai Peppino mi chiamava Peppino Peppino è era no Peppino è il migliore di noi peccato che non hai i coglioni questa secondo me è la definizione migliore di Bottai. Balbo aveva sempre aveva le come si dice alla mia parola aveva le tagli in tasca no c'è sempre una parola esatto Bottai era di grande intelligenza di grande acume e critico ma non aveva coraggio non aveva coraggio delle proprie idee aveva delle idee anche buone ma non aveva il coraggio di portarle avanti Farinacci invece aveva delle idee pessime delle idee da bandito eh Barinacci era un bandito ma aveva la faccia come il sedere di poter rendere le sue idee da bandito come effettivamente valide e quindi portò avanti per vent'anni e passa le sue idee come un bandito e quindi diciamo continuava a vivere di ricatti vivere di sotterfuggi vivere di corruzioni e veramente di corruzioni ma veramente enormi 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 anche perché tra l'altro lui che con la sua rivista ehm di Gremona 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 come era Gremona Nuova come mi sfugge il il nome della della sua rivista ma comunque di Gremona che era riuscito a a ehm inserirla all'interno delle uniche testate ufficiali del regime ottenendo ovviamente gli abbonamenti perché poi il grosso del dei suoi guadagni erano eh della da parte della sua del 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 come editore considerate che lui appunto avendo degli agganci con le ferrovie che essendo ex ferroviere era riuscito spesso a far ritardare e qui entriamo anche con contro un luogo comune dice i treni arrivano sempre in orario durante il fascismo riuscì a far ritardare i treni per far caricare sui treni i pacchi dei dei suoi giornali così poteva avvantaggiarsi del dei dei treni per diffondere gratuitamente eh il suo giornale quindi veramente un personaggio veramente meschino che appunto ripeto ha 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 rovinato delle squadre d'azione eh sì ma infatti era 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 l'esponente più più violento uno dei più violenti della eh della della zona della della Valle Padana no dal suo centro eh di di controllo a Cremona che in qualche modo poi sconfinava pure in altre province perché appunto poi ebbe grosse grosse grossi scontri con per esempio pensiamo a a a Turati a Augusto Turati no che era di Brescia che sarà successore di eh di 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 Farinacci alla sedia del partito ma con ebbero grandissimi grandissimi scontri già all'epoca eh quando all'epoca delle delle squadracce quindi diciamo è un un personaggio particolarmente discusso e discutibile sotto ogni eh punto di vista tra l'altro appunto anche egli partecipò in maniera eh in maniera attiva alla notte del venticinque del venticinque luglio eh proponendo un proprio ordine del giorno gli ordini del giorno furono tre non eh appunto avuto modo di di farci dei video appositi su su questi tre eh di su questi tre ordini del giorno il più 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 noto ovviamente è quello di grandi no quello che ebbe la maggioranza dei voti ma poi ci fu quello del partito quello di scorza sostanzialmente che appunto è fu quello che Mussolini cercò di utilizzare per per ammorbidire le posizioni di di grandi e poi ci fu Farinacci che non accettò né l'uno né l'altro né fece un altro quindi propose un proprio ordine del giorno individuale che poi appunto che tra l'altro non andò ai voti perché appunto prese più voti visto che vennero votati nell'ordine in cui vennero presentati no? Quindi eh venne venne solo votato soltanto quello di grandi che ottenne il la maggioranza assoluta dei voti però per capire come egli in una situazione talmente caotica come la sera del gran consiglio del fascismo del ventiquattro venticinque luglio avesse la faccia dosta di presentare un proprio ordine del giorno che era ancora più esasperato rispetto anche a quello di proposto da Mussolini quindi un personaggio che poi appunto aderì alla Repubblica sociale ma nella Repubblica sociale sostanzialmente non ebbe un grande ruolo quindi e egli espresse la propria ehm irruenza tra l'altro poi parleremo di 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 preziosi il rapporto tra ehm tra Farinacci e preziosi un rapporto eh di odio e amore in cui ebbero eh una serie di ehm di interessi soprattutto economici nel supportarsi a vicenda eh nelle proprie attività editoriali ma anche di eh appoggiarsi a vicenda nella continua esasperazione nella continua brutalizzazione della della scena politica interessante di Farinacci citare che fu uno anche visto che si parla di di volumi eh dei biografi di Costanzo Ciano quando morì Costanzo Ciano nei dodici mesi successivi uscirono almeno due o tre biografie di Costanzo Ciano una la schizze Farinacci eh interessante come un Farinacci che diciamo fosse sostanzialmente avverso a a un tipo di politica di elite delle delle establishment come quella rappresentata da da Costanzo Ciano potesse eh spendersi nel scrivere una biografia elogiativa dello stesso Costanzo Ciano quindi anche 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 Farinacci un personaggio assai interessante per capire come il fascismo eh si muovesse all'interno di un sistema di eh prepotenza di prevaricazione ma che minava lo stesso regime perché ripeto Farinacci era l'unico che poteva minacciare veramente eh Mussolini tramite il fratello Arnaldo perché Arnaldo Mussolini aveva grossi interessi di cui Farinacci era a conoscenza quindi diciamo che diciamo che e poi alla fine della fiera appunto Mussolini cercava sempre di trovare un capro espiatorio e quindi veniva veniva sacrificato il segretario del partito di turno per cercare di insabbiare le cose e in qualche modo riemergeva la figura di di Farinacci che poi appunto l'idea di Mussolini sostanzialmente Farinacci che era l'esponente di di quella ehm di quella corrente eh ultra esasperata no dopo la marcia su Roma fu colui che si oppose alla istituzionalizzazione del fascismo tra l'altro Farinacci che partecipò agli esami eh quando venne costituta la milizia e eh venne costituta una commissione per eh diciamo per confermare i gradi attribuiti all'epoca delle delle squadracce per la convalida eh nella nella milizia beh Farinacci non superò neanche l'esame appunto c'era l'albosito di Farinacci di quanto era incapace allora intanto non ha avuto molta fortuna nelle guerre no ma la cosa interessante eh se ti ricordi era stato se non sbaglio in azione per poche settimane in Africa e si è esploso la mano da solo eh poi faceva la pesca la pesca si voleva andare pesca con le bombe a mano e si è disintegrato la mano da solo ma siccome aspetta banferà su questa cosa dicendo che era una ferita di guerra e ebbe anche una pensione di umanità quindi già ti fa capire il personaggio sì ma lo stesso Mussolini lo stesso Mussolini ah no tra l'altro e ebbe un anche una pensione di guerra e Mussolini in un certo momento fu esitò persino Mussolini era esitante nel senso di ma dobbiamo pure decorarlo a questo che è un deficiente sostanzialmente questo l'abbiamo mandato eh intanto appunto coi gradi della dell'aeronautica no vedete è il sottotenente sottotenente dell'aeronautica perché anche lui aveva capito e qui ci abbiamo vedete qui questa questa foto è interessante questa foto è interessante perché abbiamo Ciano in mezzo con i gradi da capitano dell'aeronautica eh alla sua destra c'è Farinacci quello che è da tenente perché Farinacci ha capito che andare in Africa con l'uniforme dell'aeronautica come ufficiale complemento dell'aeronautica poteva poteva permettergli di avere un certo tra l'altro guardate che c'ha tre file di nastrini Farinacci considerato che non ha fatto neanche la grande guerra fatta in buscato sì ma è una cosa bisogna andare a vedere il medagliere di Farinacci ma fa impressione quelle tre file ma ancora più interessante è dietro Ciano che c'è Pavolini con il copricapo con il freggio dei bersaglieri cioè dietro c'è Farinacci con Pavolini con i baffi che c'ha quella fiamma grossa sul copricapo dei bersaglieri che faceva sostanzialmente il cantore il cantore di Ciano ma poi noi parliamo dopo parlando di Pavolini questo è interessante vabbè qui dicevo Farinacci un personaggio veramente squallido squallido qui con la mano finta sì squallido come è finito? l'hanno ammazzato giustamente che vuoi che vuoi ha un Farinacci che vuoi farlo quindi non spenderei più altre parole diciamo andiamo avanti ha fatto la fine che doveva fare la sua c'era di regime sì sì la sua c'era di regime perché sostanzialmente era un chiacchierone era veramente un pettegolo un un arruffone un un uomo che in ogni circostanza pescava nel torbido e nel torbido trovava roba capito? perché era veramente allucinante allora qui abbiamo un altro pezzo 90 della della grande intelligenza del fascismo Achille Starace allora Achille Starace che come possiamo dire allora sicuramente è il più longevo tra i segretari del Partito Nazionale Fascista ma il più longevo lui però le metalli se le era guadagnate allora lui se le era guadagnate perché come si dice dice lui è un fesso ma è un fesso obbediente perché sapeva il fatto aveva capito che doveva seguire qualcuno doveva avere un protettore ok e quindi durante la grande guerra essendo bersagliere quindi il titolo di essere bersagliere è sempre un durante il fascismo un elemento interessante e lui era stato bersagliere durante la grande guerra e aveva voglio raccontare un episodio su questo perché secondo me è molto interessante non so se conosci quello che era successo al al Caffè Biffi sì la storia del Caffè Biffi racconta 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 perché questo è divertente per far capire un pochino il personaggio praticamente al Caffè Biffi lui ingaggia una rissa contro dei manifestanti pacifisti gli ruba la bandiera e li comincia a menare con queste cose qui viene subito notato dall'altro e viene fuori un articolo su questa cosa qui perché lui era interventista ovviamente quindi già faceva capire il personaggio cioè era salito alla ribalta perché era un rissaiolo sì no tra l'altro era possiamo dire sempre pronto agli eccessi tra l'altro mi pare che avesse a vent'anni diciotta anni non so che cosa avesse già messo incinta quella che poi sarebbe diventata la moglie e quindi bellissima don comunque c'è nel dodicesimo perché mi sono preso due appunti il dodicesimo reggimento Bersaglieri ha vinto una medaglia d'argento a valore militare quattro medagli di bronzo e due croci a valore militari e di riconoscimento anche francesi quindi sì ma senza dubbio era un fegataccio il punto è che era un fegataccio stupido nel senso che non è che qui qui è con Bottai vedete qui Bottai con il grado qui è colonnello degli Alpini e accanto Starace come lui all'epoca mi pare che era ispettore della milizia aveva un un incarico nella milizia tra l'altro lì il problema del fronte era sempre che vi erano i doppi gradi perché c'era il grado nella milizia magari era il generale della milizia poi invece nell'esercito aveva un grado molto più basso perché non venivano equiparati comunque a parte a parte questo quindi Starace che è stato il più gran più scusate il più longevo tra i segretari del partito circa sette anni e che possiamo dire che rappresenta l'elemento più eh coreografico ma becero del del fascismo quali sono i rapporti con la famiglia di Industria e Viola non lo so orestamente non 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 l'ho approfondito quindi non non ti so non ti so rispondere mi posso informare però in questo momento non 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 ti so non ti so dare una una risposta guarda cosa guarda che ho scovato allora questo caro commendatore autorevoli amici quanto quanto a me disnerissati mi mi prega presso di lei per ottenere la revoca il provvedimento col quale il fascismo il fascismo è stato inviato in missione ciò che vorrà con piacere accogliere questa mia preghiera l'alleggiato fin da ora Achille Starace no dico ma chi l'ha scritta eh non lo so esattamente a chi l'ha a chi l'ha scritto comunque intanto sì il 25 allora il 25 Starace era sicuramente federale da qualche parte non ricordo esattamente l'evoluzione dei suoi incarichi lui che divenne segretario del partito nei primi anni 30 nel 32 quindi per competenze all'onorevole direttore c'è una scrittura del cavolo va beh guarda che la firma va bene una bella firma una firma pomposa dicevo Starace rappresenta veramente l'esponente più 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 rappresentativo dell'uomo qualunque del qualunquista del dello yes man di colui che pur di far carriera si prende carico di qualsiasi responsabilità nel senso che per Mussolini era il segretario ideale del partito perché si prendeva tutte le rogne e quando Mussolini sbagliava Starace era disposto a prendersi lui le colpe e sapendo ma ma non perché lo facesse con un interesse un secondo fine ma perché era convinto perché lui aveva Starace aveva una un attaccamento una quasi una sudditanza psicologica nei fronti Mussolini quando morirà Starace nell'aprile del 1945 a Milano morirà facendo il saluto al Duce Osannando Mussolini ancora era convinto perché lui era convinto e tra l'altro non si arricchì fu uno dei pochi che morì quasi poverissimo a Milano visto che era sostanzialmente un reglietto dal 1941 era sostanzialmente abbandonato a se stesso scrisse molte volte lui che era stato per sette anni il segretario del partito che aveva all'udienza con Mussolini anche due volte al giorno dopo il 41 era caduto in disgrazia Mussolini neanche gli rispondeva le lettere lui continuava a scrivere Duce Duce ricevetemi e Mussolini praticamente lo ignorava completamente Starace finì i suoi giorni precedenti alla sua morte andando a cercare un pasto caldo alle menze dei poveri quindi questo ci fa anche capire come la miseria era autore dell'ammemorabile marcia su Gondar il successivo presidio un libro marcia su Gondar che non vide mai il fronte cioè ci arrivò che il fronte era già avanzato di 200 km non spararono un colpo ma se tu leggi la motivazione della medaglia che gli hanno dato per la guerra d'Etiopio dici vabbè ha preso tante medaglie nella grande guerra meritate se tu vedi se tu leggi la cosa la motivazione delle decorazioni che ha ottenuto durante la guerra d'Etiopia leggi sostanzialmente una una passeggiata complicata nel senso dice l'avanzata tortuosa attraverso nel senso dice gli hanno dato la medaglia perché ha fatto un percorso accidente come ha fatto un rally ha fatto tracking praticamente esatto sostanzialmente c'è un percorso difficoltoso in mezzo a mille pericoli sì ma mille pericoli naturali non è che gli ha sparato qualcuno combatteva con i sassi esatto quindi ti evidenzia veramente un personaggio che poi tra l'altro quel libro Marce su Gondar che ha avuto anche un discreto successo successo editoriale che gli ha permesso di comprarsi una casa nella periferia sud di Roma tra l'altro una casa che poi non era niente dedichetta tant'è che appunto mi pare che poi gliela tolsero pure nel senso che ebbe delle difficoltà finanziarie perché praticamente lui contava di poter ottenere uno stipendio nella milizia ma in realtà non sì prima conflitti con i mimimi giustamente siamo a quei livelli quasi quasi le ambe le ambe di Marte quindi pensava di ottenere dei sussidi dello Stato dopo la 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 dalla dalla segretaria del partito però in realtà secondo una tale normativa ha il suo livello dove non non aveva diritto a nessun a nessun compenso e quindi sostanzialmente stava sempre cercando soldi non ottenendole tant'è che dopo gli gli fecero anche una specie di accertamento fiscale quindi pensate un po' questo disgraziato alla fine era un disgraziato che non c'era più un soldo Balbo Balbo sì non era riuscito neanche ad arricchirsi non era neanche riuscito ad arricchirsi per quanto era stupido nel senso che non non si è riuscito neanche a è qui sempre legato a questi fenomeni da baraccone che doveva il salto nel fuoco il salto con la motocicletta che dovesse sempre Cagliardo lui che appunto era bersagliere sempre di corsa famose le sue trovate il saluto al duce saluto al duce saluto al duce che si inventò questa cosa che quando entrava Mussolini saluto al duce saluto queste cose trovate sue di grande effetto di grande pomposità ma di pochissima sostanza tant'è che è qui quando venne giudicato qui poco poco prima di essere di essere fucilato ma infatti non mi ricordo se è Ciano o Bottai che dichiarano quando Starace venne liquidato dalla segretaria del partito commentano ironicamente dice Starace è stato eliminato dalla segretaria del partito non perché abbia fatto cose belle o brutte nei confronti del popolo italiano ma perché ha scocciato il popolo italiano perché li ha annoiati dice il popolo italiano può subire qualsiasi angheria e non si lamenterà mai ma se lo annoi si lamenta e questo è interessante interessante ancora gli occhi oggi no nel senso che l'annoiarsi dà fastidio all'italiano li puoi fare qualsiasi tipo di angheria qualsiasi tipo di 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 bassezza e sostanzialmente poi alla fine Starace con questa sua ridondanza con questa sua eh liturgia inutile speciosa fine a se stessa era veramente un elemento di grande di grande turbamento e fu punto fu liquidato dallo stesso Mussolini allora qui passiamo a Preziosi allora Preziosi come parlavo prima dell'inizio della diretta con con Mirko è un è un personaggio secondario del regime tant'è che probabilmente è igno di quelli che abbiamo citato oggi sicuramente quello di cui si parla meno di cui si ignora sostanzialmente anche forse l'esistenza dice chi è Preziosi eh Giovanni Preziosi ehm nasce in Irpinia e anche egli per una realtà particolarmente disagiata della propria condizione economica inizia facendo il religioso fa il prete sostanzialmente e però è un prete tenta di arruolarsi poi viene mandato a casa per problemi di vista sì perché comunque è assolutamente un disgraziato anche lui cioè è un personaggio che vorrebbe fare tante cose ma non riesce anche un represso sostanzialmente molti di questi sono repressi perché vorrebbero fare tante cose ma non ci riescono per un motivo o per un altro e lui inizia questa sua attività eh pastorale con questa piaceva molto a eh questa a a sì questa è è molto qui giace starace vestito d'orbace dal volto rapace dall'occhio mendace o merdace anzi vile mendace di nulla capace resquiescat in pace è fenomenale questa sì diciamo è è indicativa di come appunto sia un personaggio eh assai meschino assai eh inutile ecco inutile non trovo altre altre parole per tornare invece a preziosi preziosi che inizia la sua attività pastorale con un impegno sociale è un prete oggi si direbbe un prete di frontiera no prete impegnato socialmente tant'è che eh ebbe numerosi incarichi all'estero soprattutto in Germania e negli Stati Uniti nel supporto anche diciamo sociale proprio diciamo di aiuto pratico oltre ovviamente a quello spirituale delle comunità italiane all'estero egli eh realizza una serie di eh oggi li chiameremo reportage reportage inchieste sulla condizione socio-economica degli italiani all'estero e ne eh approfitta appunto per fare degli studi delle 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 memorie delle occasioni di dibattito anche in Italia su questa realtà eh di disagio ma anche di tentativo di miglioramento sociale parallelamente oltre al fatto che probabilmente la vita religiosa gli sta stretta anche perché ha delle degli interessi di mettere su famiglia gli piacciono le donne quindi diciamo che fare il prete non è non era diciamo lo ha fatto per una questione veramente di opportunità ma capisce che appunto non è la sua strada tant'è che si spreta a un certo punto si sposa con una sua ex amante e inizia un percorso eh di continuità ma di anche di cesura rispetto a quello precedente perché perché negli anni dieci potremmo dire a cavallo tra la guerra di Libia e la prima guerra mondiale inizia un percorso che potrebbe che si distacca da quel discorso meramente di eh cristianesimo sociale verso un discorso prettamente nazionalistico in cui egli continuamente ribadisce eh la supremazia della cultura italiana eh di un certo discorso di nazionalismo quindi inizia ad attaccare gli ebrei i banchieri la massoneria e in questa si comincia a produrre tutta una serie di scritti esatto esatto di complottismo complottismo giudo massonico esatto inizia in questo frullatore di cose completamente anche contraddittorie e qui arriviamo a toccare il suo compare Farinacci che Farinacci ha è legato a doppio filo con la massoneria ma a un certo punto ha ottenuto dei ranghi nella massoneria se ricordo bene sì 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 ma preziosi volente o nolente sapendolo o ignorando non ha difficoltà a legarsi a Farinacci in questa lotta appunto contro il giudaismo il bolshevismo la fotocrazia la massoneria interessante Mondatori eh questa è la maggior parte delle opere che stiamo citando eh quello prima di Staraci tutto Mondatori pubblicato tutto a Mondatori quindi diciamo che Mondatori è una casa editrice che durante il fascismo stampava tanta roba forse io non pubblico mai con Mondatori forse però dopo aver detto sta cosa però poco poco importa ma io tiro fuori quello che disse una volta la murgia gli alberi si vendicheranno comunque a parte i scherzi eh dicevo ehm e quindi eh preziosi sia vantaggio di questo discorso eh di grande eh opportunità ma anche di limitazione perché poi alla fine diciamo che mh preziosi rimane all'interno di un sottobosco che sottobosco rimarrà per tanti anni in cui eh sì eh hai degli accoliti hai un gruppo di facinorosi di estremisti che ti segue che compra i tuoi libri che che fa tendenza eh con il tuo ehm impostazione ma che comunque rimarrà assolutamente minoritario durante gran parte del regime fascista tant'è che ebbe un sacco di problemi economici eh a molte delle sue test diciamo eh realizzò una serie di eh opere diciamo di di periodici che però sostanzialmente fallirono qui stiamo arrivati a cosa a a Pavolini gestiamo a Pavolini ehm dicevo di di preziosi ehm ebbe dei insuccessi editoriali ma anche finanziari impressionanti e molto spesso ci dovette mettere le pezze proprio eh Farinacci nel cercare di risolvere e di dargli credito per riuscire a portare avanti eh questa linea estremista in parte funzionale alla linea politica dello stesso Farinacci vabbè sta di fatto che arriviamo alla fine degli anni trenta che effettivamente l'antisemitismo diventa una norma dello stato l'antisemitismo finalmente preziosi che lo dice da venticinque anni finalmente gli italiani hanno capito che devono combattere gli ebrei perché sono il nemico giurato degli italiani eccetera 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 io a vent'anni che lo dico esatto esatto il problema è che Farina è che preziosi è talmente esasperante ed esasperato nella sua crociata contro gli ebrei che neanche quando le sue posizioni diventano ufficiali all'interno del regime riesce a trovare credito perché è scavalcato a quel punto da gente che magari non ha le stesse sue convinzioni cioè non è che è antisemita perché ci crede ma è antisemita perché gli fa comodo e a Mussolini fa più comodo a chi fa più comodo l'antisemitismo rispetto a gente che ha idealizzato che è esasperato dell'antisemitismo quindi continua preziosi non solo cioè prima era sconcertato era abilito perché le sue idee non venivano accettate adesso è ancora più abilito perché vengono accettate ma sostanzialmente nessuno se lo fila ancora ancora non se lo fila quindi che succede che continua la sua attività di attaccare chiunque reputando che chiunque è amico degli ebrei che la guerra va male perché comunque ci sono le consorterie che ufficiosamente aiutano gli ebrei e continua inizierà a sparare a zero contro tutti il problema che anche durante la Repubblica Sociale italiana preziosi non manca occasione di fare figuracce quando viene lui scappa a un certo punto e va in Germania si presenta alle autorità tedesche parla anche con Hitler e sostanzialmente si propone ad Hitler come unico interlocutore dicendo ma Mussolini è un uomo finito parlate con me Führer io ho delle idee buone andiamo avanti così posso essere il punto il punto nevralgico io che sono antisemita da prima di voi figuriamoci un po' con me dovete parlare ovviamente di fronte a un matto del genere anche lo stesso Hitler ha difficoltà a credergli a un matto del genere quindi poi uno che gli parla mai di Mussolini diciamo prima la teno sempre su un palmo di mano quindi praticamente pure i preziosi continuano ad essere veramente un reglietto e anche l'anno dopo quando viene eh viene ehm nominato ispettore per le questioni razziali sostanzialmente non ha nessun tipo di ruolo perché nel frattempo nella Repubblica Sociale Italiana ci sono le lotte intestine tra il ministro degli interni Buffarini Guidi e la segreteria del partito incarnata da Alessandro Pavolini e capite bene che preziosi all'interno di questo scontro anche tra polizie diverse poi diciamo c'era il problema sostanziale della repressione degli ebrei con tutto ciò che ne concerne durante il periodo della Repubblica Sociale Italiana però capite bene che c'è una parte il ministro degli interni che vuole gestire l'ordine pubblico la 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 il controllo di polizia il partito che vuole anch'esso controllare l'ordine pubblico attraverso le bregate nere eccetera eccetera i tedeschi che hanno la propria polizia quindi capite bene che all'interno di questo vortice di scontri furibondi preziosi non ha ancora meno meno ruolo di quanto potesse avercelo prima questo è di fatto che continua ad essere sostanzialmente messo ai margini delle della politica che conta fino ad arrivare appunto a una rocambolesca fuga verso Milano con annesso suicidio lui e la moglie in maniera così diciamo mistica ha vissuto tutta la sua vita pieno di mistica appunto pubblicando scrivendo esaltando accusando gli altri veramente non aveva non aveva difficoltà a accusare chiunque accusava gentile accusava bottai accusava acerbo accusava lo stesso mussolini accusava buffarini guidi dicendo che buffarini guidi aiutava gli ebrei quindi diciamo non ne aveva non ne aveva risparmiate anche anche farinacci litigava a certo punto si accorge che farinacci è massone dopo che l'ha frequentato per 30 anni 25 anni diciamo tu sei massone io sono massone tu sei un derelì si iniziano a tirare gli stracci pure tra di loro quindi veramente una situazione allucinante passiamo all'ultimo della serata chiudiamo in bellezza veramente con con Alessandro Pavolini allora Alessandro Pavolini e lo vediamo in coppia con con Ciano e non è un caso perché stanno c'è una foto insieme tra di loro non è voluta non mi sono messo d'accordo con Mirko ma il fatto di vederli insieme abbiamo visto altre foto insieme tra perché era il gatto e la volpe sostanzialmente i due i due avevano pochi mesi di distanza erano sostanzialmente coetanei uno nato a Firenze l'altro nato a Livorno avevano seppur con delle leggere differenze ma erano figli rampolli di due famiglie benestanti di due famiglie altolocate il padre di Pavolini faceva il professore universitario tra l'altro che era scappato con amante cioè veramente delle storie rocambolesche e Pavolini nasce cresce come anche Ciano con una grande attenzione per l'arte per la letteratura per il teatro ecco sono degli elementi di comunanza tra i due l'unica cosa che li differenzia è che Pavolini per una situazione contingente partecipa alla marcia sul Roma è giovanissimo lui è del 1903 quindi ha 19 anni è un'esperienza che invece manca a Ciano e questa esperienza che Pavolini ha e Ciano invece non ha sarà determinante in quella sorta di gioco di complessi e di rispecchiamenti tra i due perché perché se nel corso degli anni 20 e nella prima parte degli anni 30 Pavolini deve guadagnarsi gli incarichi mentre Ciano sostanzialmente ha una strada spianata dal padre dal fatto di essere un predestinato che si innamora di Edda e poi si sposa con Edda Pavolini invece deve fare la cavetta fa la cavetta all'interno dei ranghi sia della milizia che del partito diventa potestà di Firenze e possiamo dire che a Firenze sviluppa un certo acume artistico pensiamo a una il maggio fiorentino una serie di attività culturali che hanno che ancora oggi hanno reso Firenze particolarmente interessante non che a Firenze manchi l'arte non che in Firenze manchi le attività mondane non dico questo ovviamente ma sicuramente Pavolini per esempio si deve a Pavolini la costruzione della stazione di Santa Maria Novella che tra l'altro se vista dall'alto sembra un fascio quindi diciamo è un elemento interessante di come Pavolini abbia avuto invece il calcio in costume quindi una serie di attività di un certo interesse anche nella valorizzazione dell'artigianato della moda del costume quindi un personaggio diciamo interessante sotto l'aspetto meramente artistico culturale ebbene il salto di qualità che viene svolto da da Pavolini è proprio essere una penna molto una penna interessante scrive molto bene e soprattutto sa compiacere il potere e quindi sostanzialmente come Costanzo Ciano che era sostanzialmente un illetterato che Costanzo Ciano era veramente un buzzurro potremmo dire che come disse come disse lo stesso figlio Galeazzo mio padre aveva iniziato a scrivere una sua biografia ha smesso perché se la stufò di scrivere perché non era capace neanche a scrivere non sapeva proprio scrivere però aveva avuto Costanzo Ciano la fortuna di avere accanto un cantore delle proprie gesta in d'annunzio guarda cosa ho trovato lo schizzo di Farinacci della stazione bello di Pavolini sì di Pavolini sì questa è esatto questa è la Santa Maria Novella che dall'alto assomiglia a un fascio beh molto bella questa cosa molto simpatica e non l'avevo mai vista tra l'altro cioè questa cosa che tu ho detto lo so per l'averlo letto ma questa cosa non è veramente è nuova anche per me è bella molto semplice nella sua nel suo elemento di bozzetto ma efficace dicevo quindi come Costanzo Ciano il vecchio Ciano avesse avuto come cantore d'annunzio ottenendo dei duplici vantaggi perché d'annunzio si avvantaggiò delle azioni belliche di Ciano e viceversa nella guerra d'Etiopia vi fu una stessa confronto in cui Ciano Galeazzo che non era un fulmine di guerra che non era il più valoroso dei valorosi si avvantaggiava in parte della nomea di Ettore Muti dall'altra delle lodi e degli articoli che scriveva Pavolini che scriveva all'epoca anche sul Corriere della Sera in cui veniva infiorettava raccontava con grande enfasi queste vicende di di Ciano e potremmo dire che in qualche modo si facevano un po' il gioco delle parti nel senso che Pavolini scriveva perché Ciano faceva carriera e Ciano faceva carriera perché Pavolini scriveva di Ciano quindi diciamo un gioco un circolo virtuoso e in questo circolo virtuoso si avvantaggiano tutte e due perché alla fine della guerra la guerra d'Etiopia Ciano passò dall'essere il ministro della cultura popolare prima si chiama la stampa e propaganda poi diventa della cultura popolare e diventa ministro degli esteri e proprio Pavolini diventa ministro della cultura popolare e questa promozione a ministro lo porta ad interessarsi di tante cose qui lo vediamo insieme al suo omologo Goebbels quindi diciamo che capiamo a che livelli di che livelli stiamo parlando nel senso che un Pavolini che inizia da giornalista che era giornalista passa automaticamente a essere lui il referente il il committente dei direttori dei giornali perché è il ministro della cultura popolare che detta le veline detta le direttive gli articoli che possono essere pubblicati le notizie che non possono essere pubblicati in che modo le notizie devono essere pubblicate quindi diventa veramente un po' il il deus ex machina della della cultura italiana di quello che viene rappresentato nella cultura attraverso la propaganda e elemento interessante lo sviluppo del cinema il cinema è un elemento interessantissimo della realtà del fascismo sappiamo come Mussolini stesso credesse molto nel cinema nella rappresentazione immagine suono e lo stesso Pavolini con lo sviluppo non solo di cinecittà ma anche di alcuni stabilimenti lungo il tirreno nella zona appunto tra tra Pisa e Livorno una zona tua Mirko per capirci abbiamo uno sviluppo molto diffuso usato anche negli anni 70 80 i film di Bud Spencer Terence la serie Bulldozer tutto girato sugli studio Sal Calambroni esattamente e quindi lì c'è una diffusione e si deve a Pavolini nel senso di questa diffusione e tra l'altro anche di una certa ovviamente interesse verso il sesso femminile c'è una delle amanti dello stesso Pavolino fu Doris Duranti che tra l'altro ebbe una diatriba su chi fosse il primo seno nudo della storia del cinema italiano se quella della Duranti o quella di Clara Calamai quindi diciamo è un dibattito che ancora oggi arrovella diciamo che feticisti un po' un po' vintage nel senso di andare a cercare io voglio dire una cosa Giovanni io e te le abbiamo accordate le immagini no 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 guardate io sono sincero io sono una persona veramente sincera e totalmente sincero che oggi ho fatto una diretta muta perché non sapevo come si mettesse l'audio quindi ho fatto una figura a barbina quindi non ho difficoltà a mettere a nu ragazzi sto con sto maglione quindi più di così non veramente non ho difficoltà a fare figure di cavolo però a parte scherzi no non l'abbiamo concordata ma a parte che io cerco anche di adattarmi alle immagini che vengono però effettivamente diciamo Pavolini si presta e poi la Durante era una bella donna quindi in qualche modo diciamo è congeniale e a parte scherzi quindi emerge anche una una grande e certosina attività perché poi Pavolini non era uno sciocco nel senso che ebbe poi una sua metamorfosi in cui e questo è l'elemento interessante nel rapporto con Ciano perché poi dopo se no non si capisce l'importanza di Pavolini all'interno degli equilibri dei regime se non si capisce l'evoluzione nel rapporto con Ciano cioè se noi consideriamo che erano praticamente amici fraterni Pavolini fonda la sua carriera politica su Ciano sostanzialmente cioè passa da essere un ex potestà di Firenze brillante giornalista per carità ma niente di più in pochi mesi diventa ministro della cultura popolare lo si deve sicuramente a Galeazzo Ciano e alle influenze che Galeazzo Ciano rivolge a favore del suo amico stati fatto che le fortune di Pavolini si chiudono con la fine del cosiddetto gabinetto Ciano cosiddetto gabinetto Ciano che è un lungo periodo in cui i ministri erano sostanzialmente amici o protetti di Ciano stiamo parlando grosso modo tra la fine del 39 e i primi del 43 periodo grossomodo in cui le alterne vicende del periodo di cobelligeranza e poi della guerra stati fatto che nel febbraio del 1943 il cosiddetto gabinetto Ciano crolla Ciano viene mandato a fare il ministro scusate il ministro l'ambasciatore presso la Santa Sede e Pavolini è sostanzialmente disoccupato e riprende a fare un po' il giornalista quindi nella sua veste di tornato a essere un sì questo è un Alessandro Giro d'Italia perché lui si interessava anche di sport aveva una serie di attività collaterali all'elemento di come si dice di 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 attività culturali questo sulla Finlandia è interessante perché il padre era un studio su di finlandese di lingua e letteratura finlandese tant'è che era scappato con una finlandese quest'amante del padre di di Pavolini diciamo che una famiglia abbastanza variegata e che volevo dire ah quindi sostanzialmente Pavolini vive la crisi del fascismo del dell'estate del 1943 da 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 mero spettatore senza nessun tipo di 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 intervento di 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 partecipazione di un ruolo quindi vive ai margini ma vive ai margini avendo però nel frattempo maturato una sempre più grande attenzione e vicinanza anche ideologica nei confronti del nazismo proprio perché il ruolo eh di propaganda che egli ha esternato ha sviluppato negli anni della guerra lo hanno portato a frequenti visite in Germania e quindi a capire come i tedeschi è sempre meglio averli amici che nemici e questo lo porterà dopo l'otto settembre ad essere a divenire un punto di riferimento disinteressato dei tedeschi nei confronti della ricostituendo eh governo fascista e Pavolini che rappresenta un po' l'uomo nuovo perché comunque ha 40 anni era del 1903 nel 43 ha 40 anni quindi non è che è un vecchio ma rappresenta rispetto a tutti i parrucconi che i tedeschi un po' snobbano no? quelli che in qualche modo anche gli stessi buffarini guidi ehm ehm farinacci cioè gente per loro te cotta no? gente che ha che ha fatto il tempo suo eh Pavolini viene consigliato un giovane e quindi riesce a emergere e trova nella eh segreteria del partito del nuovo partito del partito fascista repubblicano l'occasione della vita l'occasione della vita però che viene declinata in una continua brutalizzazione nella violenza fine a se stessa e quindi vediamo l'esperienza della Repubblica Sociale Italiana come un abbrutimento continuo è un abbrutimento continuo a tal punto da trovare il suo fondamento nella vendetta dei cospiratori del 25 luglio e colpire i cospiratori del 25 luglio significa condannarli a morte e condannare a morte anche Galeazzo Ciano ossia colui che aveva determinato il successo e l'ascesa politico-sociale dello stesso Pavolini quindi è veramente uno di quei casi in cui si direbbe che neanche davanti al suo creatore la bestia conosce gratitudine esattamente esattamente proprio così proprio così Pavolini entra in un ruolo che non si capisce bene se lo è autoimposto o se le circostanze che glielo autoimpongono perché comunque l'esasperazione la Repubblica Sociale Italiana è un'esperienza veramente complicata in cui esce il fascismo peggiore il fascismo veramente dei più depravati dei più esasperati di quelli che durante il regime non erano riusciti a emergere quindi stavano nelle seconde linee ci sarà un motivo per cui stavano nelle seconde linee e stappata la parte sopra vengono catapultati ma vengono catapultati con grandissima violenza esasperazione il ritorno alle origini i picchiatori i più estremisti ma è peggiorato perché nel frattempo il fascismo era comunque stato per 20 anni istituzionalizzato in qualche modo si era data una regolata mentre questi capiscono che crollato tutto bisogna diciamo ribaltare tutto quanto e bisogna buttare alle ortiche anche le stesse conquiste che lo stesso Mussolini aveva ottenuto tant'è che sostanzialmente nella Repubblica Società Italiana Mussolini conta niente Mussolini non ha neanche un proprio ruolo autonomo il prigioniero dell'SS esatto esatto Pavolini rappresenta veramente attraverso le lotte intestine perché poi qui torniamo a un discorso che già abbiamo affrontato quando abbiamo parlato di Buffarini Guidi il video precedente era lo scontro ferocissimo tra le realtà locali dove il Ministero degli Interni vuole comandare grazie ai prefetti mentre il partito vuole comandare grazie ai vecchi federali hanno un altro nome ma sono sempre gli stessi quindi ecco come torna ad essere di quotidiano dibattito lo scontro territoriale ma comanda più il rappresentante del Ministero dell'Interno o il rappresentante del partito è un enigma che non verrà mai sciolto ma sarà l'elemento costituente delle lotte intestine durante tutto il periodo della Repubblica Sociale Italiana quindi Pavolini che poi alla fine capisce che non è neanche lui capace di gestire una situazione e l'unica salvezza che egli ritiene utile è la mitica difesa a oltranza sono cercare la bella morte quella bella morte che per tante circostanze non ha ottenuto non l'ha neanche cercata ma in quella circostanza la cerca la cerca perché capisce che l'ultima salvezza per la propria essenza è cercare la bella morte quindi finisce la sua vita sostanzialmente nella difesa a oltranza della valtellina di questa situazione ingestibile impossibile perché poi è una missione impossibile poter difendere il fascismo sulla valtellina con questo ridotto alpino mitico in cui appunto in cui lo stesso Mussolini non lo segue scapperanno tutti sì ma appunto ma lo stesso Mussolini non lo segue perché capisce che è inutile non serve a nulla ma Pavolini è talmente entrato in un discorso di idealizzazione del fascismo di cercare dei valori inesistenti ma che non sono mai esistiti sostanzialmente e quindi continua e quindi troverà questa sua morte inutile sostanzialmente e che in qualche modo coronerà solo cioè sostanzialmente è morto come è vissuto o è vissuto come è morto diciamo che poco cambia e quindi sostanzialmente morirà a 42 anni se penso che io ce ne ho 43 io sono vissuto più di Pavolini quindi diciamo in qualche modo mi consola questa è una cosa su cui rifletto molto spesso no il fatto che Ciano è morto a 40 anni Pavolini a 42 oggi a 43 quindi diciamo sto già avanti con sono vissuto molto più di loro quindi sta cosa per certi aspetti mi gratifica ragazzi almeno e questo è quanto ne ho fatto due ore quasi e mezza la mia voce è completamente scesa è andata è andata allora io ti ringrazio tantissimo ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito c'era anche il mondiale rimando tutti a domani sera anche perché domani sera parleremo di di alcuni rapporti che credo non sono mai stati discorsi faccio vedere il banner con due ragazzi che si occupano di geopolitica una esperta di America e l'altra di Francia quindi ci occuperemo dei rapporti tra America Francia e America Russia Francia Russia in questo triangolo un po' assurdo di questioni geopolitiche poi vabbè verso il fine settimana faremo una live sulla guerra in Ucraina per vedere un pochino tutte le situazioni a Bakhmut sul fronte di Cremina e aggiornamenti vari diciamo quindi vi rimando a domani sera ringrazio tra le donne giustamente belle e brave quindi ci becchiamo domani sera alle 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 21 grazie Giovanni io vi ringrazio e abbiamo ancora un altro video perché dobbiamo finire i gerarchi abbiamo ancora altri altri otto quindi ne abbiamo ancora uno siamo arrivati fino a qua fino a Pavolino gli estremisti gli imperialisti e i militanti abbiamo abbiamo finito questa lunga carrellata io spero che il tuo pubblico abbia gradito spero di sì perché a me affascina sempre parlare di questi personaggi perché un po' il senso dell'ordine nel senso che poi appunto parlare di starace di preziosi di 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 farinacci veramente cioè veramente ha il culto dell'orrido sì ha il culto dell'orrido però bisogna capirli questi personaggi anche perché io non voglio di niente ma alcune alcune caratteristiche di questi personaggi li ritroviamo tu hai citato prima un nome diciamo eh però anche in altri personaggi della scena attuale quindi diciamo che tutto il mondo potrebbe fare il toto quale Gerarca assomiglia a un politico degli ultimi 20-30 anni vedere un po' le similitudini caratteriali eh che si protraggono eh un bel un bel discorso però rischieremo qualche denuncia quindi diciamo meglio lasciare intendere un po' qualcosa che buttata là senza sbilanciarci troppo così va bene allora grazie ancora ciao alla prossima grazie a tutti